Eccoci siamo tornati insieme e il nostro titolo recita Napoli-Inter non si spengono le polemiche dopo la Supercoppa Perché dico questo? Perché l'Inter è la squadra che ha alzato la Coppa al cielo Probabilmente a perdere è stato il reparto arbitrale E' Napoli E' Napoli chiaramente, chiaramente Francesco Prima dell'arbitro Napoli Ecco, guarda, riparto da te allora No, 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 ci stavi girando di là, inizia da là, inizia da là Sì, sì, prego, perché tu la conduttrice Volevo introdurre l'argomento, poi avremo modo di andare a sviscerare nel dettaglio Situazione Cialanoglu, dichiarazioni di questo arbitro che va in anonimato a parlare alla redazione delle Iene A letto di tutto, Jack, l'Inter ha meritato di vincere sul Napoli per te? Secondo me sì Il tabellino di ti rimporta possesso palle, eccetera No, il Napoli, ti devo dire la verità Il Napoli, se parliamo della prestazione Sì Mi ha stupito, perché con la Fiorentina non mi è piaciuto per niente Con l'Inter invece ho visto un buon Napoli Ha messo in difficoltà l'Inter Però poi alla fine, secondo me In base alla domanda che mi hai fatto te Ai punti l'Inter, dal mio punto di vista, ha giocato meglio Ha avuto delle occasioni Perciò ti dico, se tu mi fai la domanda Se ha meritato di vincere Ti dico sì, sotto questo punto di vista sicuramente sì Perché secondo me ha giocato meglio del Napoli Anche se, ripeto, il Napoli ha fatto una bellissima partita Perché arrivava da una partita con la Fiorentina Secondo me non bella Ha vinto, però non ha fatto una grande prestazione Con l'Inter invece mi è piaciuto il Napoli Francesco c'è da dire, visto che comunque è inevitabile nominarla L'ammunizione di Simeone va a cambiare nettamente gli equilibri della partita Per te c'era, non c'era? La prima o la seconda? No, non me lo so La seconda La seconda c'era tutta la vita Il problema è la prima E quindi la prima non c'era Il problema è la prima E il problema è la conduzione di gara nel primo tempo Cioè, se tutti gli arbitri collegati nel post partita Analizzando la partita hanno dato un voto insufficiente a Rapuano Il più alto gli ha dato 5 Tutti gli altri 4, 4 e mezzo Un motivo ci sarà Ed è quello che abbiamo visto da casa anche noi Che non siamo né arbitri né ex giocatori professionisti Ovvero un cambio completo di atteggiamento dal primo al secondo tempo ingiustificabile Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che un arbitro non possa mostrare personalità Se la partita si incattivisce o robe del genere Perché questo va fatto se tu sei un arbitro con personalità Ed è giusto farlo Il problema qual è? Che il Napoli giustamente Giustamente Si sente defraudato di una finale Perché al proprio giocatore Viene dato un cartellino giallo il primo Che rispetto ai gialli che non ha preso Ciaranoglu nel primo tempo Urlano qualsiasi tipo di roba Cioè, il concetto è Ciaranoglu nel primo tempo fa 3 falli Tutti e 3 da giallo I primi due non vengono calciati Il primo addirittura non richiama neanche l'attenzione Al secondo lo fa Al terzo che è quello meno fallo degli altri Gli dà un giallo Dove tra l'altro prende anche un po' il pallone Alla fine del primo tempo Simeone sul primo fallo Una trattenuta lievissima In uscita dall'area di rigore del Napoli Non può essere mai un fallo tattico Perché non è un'azione di partenza È in fase embrionale l'azione di gioco Lui prende un giallo E poi gli dà il secondo che c'è Il problema, ripeto, è tutto atteggiamento precedente E questo cosa comporta? Comporta che il Napoli Non riesca a giocare una finale Che si stava giocando alla pari Fino al sessantesimo Fino al novantesimo Magari portandola anche ai rigori Dove ai rigori può succedere qualsiasi cosa Poi l'Inter magari avrebbe vinto anche in 11 contro 11 2 a 0 Perché l'Inter è più forte del Napoli Sulla carta è più forte Il concetto qual è? Nessuno, per esempio Io non ho sentito dire a nessuno Una cosa di cui parlavo ieri Con persone che non erano qua Che mi sembra abbastanza palese Con il nuovo regolamento Quando Ceranoglu prende il giallo da diffidato Scazza la diffida in campionato Quindi la squalifica Perché il giallo per ammunizione e per diffida È una cosa differente Da un'eventuale espulsione Con questo cosa voglio dire? Che non solo l'arbitro ha rovinato la finale di Supercoppa A tutti Perché non l'ha rovinato solo a Napoli L'ha rovinato anche a chi la stava guardando Ma probabilmente anche all'Inter stesso Che meritava di vincerla in 11 contro 11 Perché è più forte, ripeto Ma ha evitato anche Non espellendo Ceranoglu Che andava espulso Per il tenore dell'abitraggio Che lui ha tenuto nel secondo tempo Di saltare pure la sfida di Torino Di Milano con la Juventus Il 4 febbraio Perché se fosse stato espulso Per regolamento Quello non andava di pari passo Con la munizione precedente Ma diventava un'altra cosa E quindi avrebbe preso due giornate minimo Sì, sì Dopo vi facciamo leggere nel dettaglio Abbiamo proprio Grazie alla nostra regia Dopo vi facciamo vedere appunto Nel dettaglio Il regolamento Che appunto va In riferimento a quanto ci stava dicendo Francesco Fabio E poi naturalmente vado da Max Beh L'Inter ha meritato È vero che Comunque Dopo l'espulsione di Simeone Ci ha messo 32 minuti A metterla dentro Io non ho detto che ha meritato Beh Oddio Quanto meno No Loro sì A me non me l'hai chiesto La mia risposta è no No Io sono parzialmente d'accordo Nel senso che Francesco Ha sollevato un tema Interessante Assolutamente condivisibile Che è quello del nettissimo Cambio di metro Dell'arbitraggio Dopo l'intervallo Che A mio parere Nel giudicare un arbitro È un elemento Molto negativo Per me Opinione personale È un elemento Molto più negativo Del singolo errore Perché il singolo errore Può capitare A chiunque Capita Ai giocatori Può capitare Anche all'arbitro Viceversa Cambiare completamente Il metro di arbitraggio È Credo la cosa peggiore Assieme alla compensazione Che possa fare un arbitro Detto questo Ho detto parzialmente Perché secondo me Le ammunizioni ci stanno entrambe Sulla seconda Credo Non ci sia discussione Anche sulla prima È Il tipico fallo Di trattenuta plateale Giocatore che ormai è andato via Sta ripartendo Che sia o non sia Un'azione pericolosa O altro Plateale Sì Trattenuta plateale Perché è davanti Lo cintura Lo trattiene Però ragazzi Secondo me Se diciamo le regole Bisogna dirle tutte giuste Però Allora Infatti Secondo me Le due ammunizioni Ci stanno entrambe Il problema è proprio Il cambiamento Di metro di arbitraggio Per cui Se anche nel primo tempo Avesse tenuto Lo stesso metro di arbitraggio Scusa Ma finisco Se anche nel primo tempo Avesse tenuto Lo stesso metro di arbitraggio E avesse tirato fuori Tre o quattro Cattini gialli Ma che è Ti danno il metro in mano Il primo tempo E il secondo tempo Ti danno un altro metro Ma cosa stai dicendo L'arbitro Che ha cambiato Metodo di arbitraggio Ma non è un metro Scusa Non è un metro Tu giudichi Tre falli Che faccia la Noglu Di cui te lo dico Il primo Negli anni Ottanta Rischiavi il rosso diretto Il primo Negli anni Ottanta Rischiavi il rosso diretto Non adesso Con le regole di adesso Al quarto minuto Oltretutto Avrebbe cambiato Non poco le sorti Hai rischiato il rosso diretto Io non lo so neanche Che minuto era Non lo so neanche Che minuto era Quarto Io ti dico Che sul primo intervento Di Cialanoglu Per me c'è pure La possibilità Di prendere il rosso diretto E quello non è un metro Scusami Quello è O sei arbitro scarso O non so che cosa Ditemi voi che cosa O è scarso Perché se dai Quelle due ammunizioni A Simeone Cialanoglu A metà del primo tempo Doveva già uscire Poi a me I retropensieri Che si dicono E che Con quella Ammunizione O con quella espulsione Avrebbe anche saltato Un'ulteriore partita Di campionato Non solo quella Con la Fiorentina Con cui lui Era già Arrivato A raggiungere La 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 squalifica A mezzo Della prima Ammunizione Presa Nella semifinale Diciamo Della supercoppa Con la Lazio Ma questo Questo retropensiero A me non interessa Io guardo il campo Giudico E vedo Cialanoglu Il primo tempo Non doveva terminarlo Vuoi il primo fallo Vuoi il secondo Vuoi il terzo Non doveva farlo Punto Da lì Da lì C'è Secondo me L'Inter Che gioca In 10 contro 11 Quindi A questo punto Stiamo parlando Del niente Scusa Poi poteva vincere 5 a 0 L'Inter Perché è forte Più forte Io Scusami Fabio Io appena dopo La partita E c'è qualcuno Che è testimone Ed è lì in studio Ho parlato con Mazzarri Ho parlato con Mazzarri E Mazzarri Ti dico cosa ha detto Meglio di no Ti dico cosa ha detto Mazzarri Meglio di no Max Visto il finale di partita Posso immaginarlo No ragazzi Non lo immaginate È meglio che non te lo dico Cosa ha detto Mazzarri No però ecco Non lo riuscite a immaginarti Guarda ti dico solo una cosa Ti dico solo una cosa Mazzarri mi ha detto Massimo Ti giuro Che dal campo E tu sei stato calciatore Dal campo Io ho visto Delle cose Che non te le posso Neanche raccontare Che dal campo Le ho viste Come si è indirizzata La partita Dal campo Tant'è vero Che lui Lamentava L'espulsione Di Cialanoglu Che ragazzi In una finale Non in un campionato In una finale Partita secca Eh ragazzi Ma cambiano eh Cambiano le cose Torniamo Torniamo a quello che dicevo L'episodio che ha toccato Massimo È uno di quelli Che poi Puoi giudicarlo Però è Il tipico esempio Di errore In cui dici L'arbitro Doveva espellere il giocatore Non l'ho fatto È un errore Ma ne fai tre Ma ne fai tre Quello invece che Quello invece che rilevo io Come gravissimo Beh due Quarto minuto e 26 Al terzo poi Il giallo gliel'ha dato Ho capito Doveva essere spuso prima Tu dici Perché dovrebbe essere rossi Non è più un errore Se gli ha dato il giallo Non è più un errore Possono starci i due errori E quelli sono errori singoli Che poi possono diventare gravissimi Quello che Però per me L'errore dell'arbitro Ripeto Come il difensore Che si perde l'attaccante in area O l'attaccante che sbaglia il gol Davanti al portiere È un errore che ci può stare Nella gestione della partita Quello che per me è inaccettabile Quando parlavo di metro arbitrale È Se tu nel primo tempo Lasci giocare Diciamo Come metro di arbitraggio Intendevo questo Massimo Quando parlavo di metro Se tu lasci giocare Ma quello non è un lasciar giocare Fabio scusa Abbi pazienza Ma è nel secondo tempo No nel secondo Paraglia ha monito nel secondo tempo No ma stai dicendo una roba sbagliata No Fabio Perché quello non è un lasciar giocare Se uno fa un intervento falloso In ripartenza E quello tu dici È un errore Ma aspetta Ma è falloso Ma è pure pericoloso Il primo intervento È pure pericoloso Va a sfiorare L'incolumità fisica dell'avversario Quello è un rosso Non lo discuto Non è No ma non è un metro Tu stai continuando a battere il codo Con il metro È un errore Basta Ma non andiamo a dire che è metro Io esco dal singolo episodio E dico Nel primo tempo Guarda Al di là di questo episodio Sì abbiamo le immagini L'arbitro ha avuto Un certo tipo di gestione della partita Posso permettermi Che poi dopo l'intervallo Ha cambiato completamente Fabio Questo non va bene Posso permettermi Allora Per farti un paragone È come il giocatore Che fa un fallo D'ammunizione E dice all'arbitro Che è il primo Ah beh certo Se è un fallo d'ammunizione Mi sono fatto capire Certo Mi sono fatto capire Certo 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 Cioè Ogni tanto vedi Che l'arbitro Ammunisce un giocatore Che è d'ammunizione Perché il fallo è d'ammunizione E diceva il primo Anzi Magari anche D'arancione E il giocatore Si gira verso l'arbitro E dice È il primo Se ti ho stirpato le rotule Sarà anche il primo Ma ti amo Allora Quello che vuol dire Massimo E io condivido È che tu puoi lasciare giocare Però se c'è un fallo Da rosso O da giallo Io lascio giocare Ma devo tirarlo fuori Lo sanzioni Cioè Hai capito Non esiste E questo è un discorso Ora Appurato che sull'episodio Singolo di Cialanoglu L'arbitro Ha probabilmente sbagliato A non sanzionarlo Immediatamente Anche se era solo Il quarto minuto Al di là di questo episodio Guardando la partita Nel suo complesso Nei primi 45 minuti Ha Tra virgolette Lasciato giocare Nei secondi 45 minuti Ha cominciato A fischiare E sanzionare Non c'entra se è il quarto minuto Anche nel sottopasso Io posso essere ammonito Ah beh Il solito discorso Bravo Giacomo Bravo Giacomo Sappiamo che gli arbitri L'arbitro di poca personalità Non se la sente Di intervenire con un rosso Al quarto minuto Perché poi dopo A posteriori Sbaglio Si arrivano le critiche È stato eccessivo Ha condizionato la partita Eccetera eccetera Due cose Io più volte ho contestato Però io chiedo una cosa Scusate Io chiedo una cosa sola Ma secondo voi Rapuano Era un arbitro È un arbitro No Io due cose devo Ma scusate C'è la finale Di supercoppa italiana Mando il migliore Certo Io mando orsato Mando guida Eh scusa eh Ma mando anche orsato Mando un internazionale Maresca Maresca Sì sì Ce ne sono vari Vi faccio da Paolo Vinci No io ho due aspetti importanti Vai domanda e poi ci fermiamo Primo mi chiedo se è orsato Maresca o guida Non avessero al quarto minuto Espulso o meno C'è un uoco per quel fallo Secondo me la moniva Che va a forbice Ma la moniva comunque La moniva Paolo Quanto meno la moniva Però va a forbice Infatti io sono d'accordo con Massimo Sai ma monici uno al quarto minuto Però scusami Scusami Perché bisogna Corredarla la cosa Sì Giacomo Tu vieni a monito Al quarto minuto Del primo tempo Tu come giochi Il resto della gara Adesso ti faccio l'esempio Massimo Quando c'era Noglu è stato Io ho un'immagine davanti È stato a monito Era già Nei tempi supplementari Lui doveva stare in campo Per battere i rigori Nei eventuali rigori Della parte sinistra del Napoli Appena fuori l'area di rigore Non so se ti ricordi È andato via Il difensore del Napoli C'è la Noglu Stava entrando Si è fermato Perciò Se succede al quarto Del primo tempo Sei obbligato O ti fermi O vieni a monito Con il secondo giallo E sei fuori Rischi di lasciare la propria squadra In dieci Ragazzi Ripartiamo da chiarezza E lo facciamo con La foto del regolamento Della Supercoppa Proprio anche per fare luce Su quanto è successo Riguardante il giallo Di Cialanoglu E le conseguenze Qualora il giocatore Avesse preso anche Il secondo giallo E quindi Il rosso Sarebbe scattata Come diceva prima A Francesco Cuppini Sarebbe scattato Il fatto che Cialanoglu Saltasse Non una Non lo dico io Ma due partite Quindi non solo Fiorentina Ma anche l'incontro Con l'Inter Ce l'abbiamo Regia Così Con la Juve Sì Con la Juve Eccola Grazie mille Vedete La leggiamo insieme Beh Un calciatore Tecnico Sposto in finale Sconterà la squalifica Nelle gare Di campionato Successive Alla conclusione Della Supercoppa Quindi quanto avviene Supercoppa Condiziona Il campionato Ora Prima Max Tu dicevi Che non volevi fare Dietrologia No Quindi Non Non Sposiamo la tesi Del fatto che Ci sia stato qualcuno Che abbia potuto Pensare a questa cosa Chiaramente però Se Cialanoglu Non fosse stato Disponibile In Partita con L'Inter Per la Juventus Scusate Con la Juventus Per l'Inter Sarebbe stata più difficile Quanto meno Sul campo Ma io Non Io non Vado a guardare Questa cosa Io Guardo quello Che è il regolamento Guardo La partita E vedo Che c'è Un giocatore Che andava Sicuramente Espolso Poi non so Se al quarto Al ventesimo Al trentesimo Del primo tempo Sta di fatto Che sono stati fatti Tre falli Per cui L'espulsione Gli sarebbe toccata Che poi Giustamente Come dice il regolamento Avendo preso Già l'ammunizione Con la Lazio E quindi Già In squalifica Con la prima Di campionato Peraltro Io poi Non condivido Nemmeno Sto regolamento Perché si sono Incartati pure Quelli della Lega Si sono incartati Pure quelli della Lega Perché se Prendi una munizione In Supercopa La sconti in Supercopa Cosa c'entra il campionato Comunque Detto questo Visto che questo regolamento Incartato Dai fenomeni Dai geni Della Lega Fa sì che Le ammunizioni Barra espulsioni Che avvengono in Supercopa Le sconti In campionato Logicamente L'espulsione Avendo già Raggiunto la diffida E quindi Essendo già andato in squalifica Con l'ammunizione Presa con la Lazio L'eventuale espulsione Avrebbe provocato La squalifica Nella gara successiva A quella della Fiorentina Ma io Io non faccio Retropensieri Perché penso Sempre che ci sia La buona fede In tutto Assolutamente Però poi dopo Uno deve riconoscere Deve riconoscere Quello che Quello che È il campo E quello che ti dice il campo E riconoscere Quello è un errore Quell'altro non è un errore Scusa Faccio una piccola parentesi Perché Sono lontano da casa Mia mamma Ci ha visto prima È una piccola parentesi E l'abbiamo fatta Commuovere E mi ha detto Di salutare Oppini e Ferri E questo lo volevo dire Perché lei Era È sempre stata Tifosa di Gigi Riva Anche quando era Ragazza Diciamo Quando era giovane Si è commossa E questo lo volevo dire Signora un abbraccio Come si chiama Max? Tua mamma? Si chiama Anna Anna un abbraccio Allora Anna un abbraccione Ma penso che Insieme ad Anna Questo sentimento Ci sia stato Da tantissime persone Massimo Perché Giacomo La conosce Massimo Dagli un bacio Da parte mia Che ormai Con tua mamma Ci conosciamo Da 40 anni Forse 45 Sì Vedi le sfortune della vita Perché io non conosco Sua mamma Lui conosce la mia E lui Non è sta roba E lui che è sfortunato A aver conosciuto la mia Capito? Per un attimo pensavo Sono rimasto perplesso Perché pensavo Le sfortune della vita Che la signora Brambati Conosce Giacomo Ferri Mi sembra Cattiva Nei confronti di Giacomo Ferri Invece ti devo dire Che quando mi ha conosciuto Ho detto Mi raccomando Il mio bambino Che era Allora Francesco Tu che in un qualche modo Sei Stato colpito Direttamente Da questa cosa Allora Un appunto Io esattamente come Max Ma la Fede Non voglio neanche sentirne parlare Però dato che Giustamente E sportivamente parlando In un campionato A sorpresa Per la Juventus È uno sconto diretto Imminente È ovvio che uno Va a guardare Il regolamento E dato che esplose Un putiferio Soprattutto da Napoli La notte stessa E la mattina dopo E non solo Non è ancora terminato Uno fa due calcoli E vede che ci sono Delle cose che continuano A non tornare Perché dico questo? Perché il Napoli Ragazzi Tra campionato E supercoppa italiana Quante robe avrebbe Da recriminare A sto punto Anche perché Io non ho mai visto Non mi è mai capitato Non pensavo che fosse possibile Lo dico qua E non lo nego Che molti Non tutti Sicuramente Tifosi del Napoli Sperino Nello scusetto della Juventus Perché trovino Questo campionato E queste coppe Indirizzate Troppo da una parte Io non Mi associo a questo ragionamento Ma sto dicendo Vox Populi Tu speri che lo vinca la Juventus Per altri motivi Perché sono Juventus Oltre a Solaroli Che è un milanista Abbastanza anomalo Perché fa quasi L'ultranostro Ultimamente Io per carità Lo ringrazio Comincia a girare Un po' troppo Questo retropensiero E noto Che dall'altra parte Quelli che sono abituati A puntare il dito E parlo di personaggi Non specifici E professionisti Come ex calciatori O giornalisti Seri Ma parlo di molta gente Che tra l'altro Frequenta anche molto Spesso i social E le televisioni Si senta improvvisamente Accerchiato E non sappia Come uscire Da questo problema Ragazzi Benvenuti Ecco E quindi Voglio rigirare La domanda a Paolo Vinci Perché tu mi hai citato Solaroli Però Paolo Vinci Mi sembra anche Che tu sia Di fede Rossonera E quindi La domanda è Ma quindi a questo punto Ovviamente In un mondo In cui non esiste Il Milan Per chi tipi Alla luce di quanto Stesse dicendo Francesco Per l'Inter O per la Juve Io ti rispondo A questa domanda Molto tranquillamente Dicendoti che Effettivamente Stanno succedendo Troppi episodi Troppi Incanalati In una certa direzione Io non parlo Di malafede Parlo di ignoranza Delle arbitri Di ignoranza E mancanza Di un protocollo Per quanto riguarda L'applicazione Del bar Ma in questo momento Sinceramente Al netto Di tutte Di questo campionato Che sto seguendo Con attenzione massima Anche dal vivo Se è possibile Devo dire Che l'Inter È stata avvantaggiata E quindi A livello empatico Anch'io Caro Francesco Perciò I punti che ha l'Inter In campionato Sono rubati No Non essere estremo Rubati nel senso Le ha portati via Quello di cui è stata accusata La Juve per anni Di ogni cosa No no Ma la mia è la domanda Alcuni episodi Sono stati No non è così L'Inter è la squadra più forte Allora le due squadre Che hanno Domanda Le due squadre Che hanno più continuità Ad oggi Sono le prime due Senz'altro Non mettiamo in discussione Però diciamo Che alcuni episodi Dell'Inter Sono stati Incanalati A senso unico Per 3-4 partite La Juventus Ne ha avuto uno A favore clamoroso Con Bologna Ne ha avuti due contrari Pensate a Genova Ad esempio Con Genova Diciamo A tutti è accaduto questo Il Milan ha avuto Un episodio Dubbio Su Genova Ti ricordo Paolo Che col Bologna Però ti ricordo Che col Bologna Prima di quel rigore Enorme Gigantesco Pribologna Gigantesco Con un rosso Dealing Al 92esimo C'era un rigore Altrettanto grande Non da rosso Ma altrettanto grande Su chiesa Nel primo tempo Per dirne una Si bilanciano In questo si nota Come l'analisi Venga spesso Distorta Dalle lenti Del tifo Perché Paolo Vinci No io sto parlando di Ha ricordato L'episodio Nettissimo A favore della Juventus Del rigore Contronegato col Bologna Marocchi è stato chiaro L'episodio Nettissimo A favore dell'Inter Il dubbio Per Pulici No non era un dubbio Era uno stop di mano Stai andando Quindi è un episodio Nettissimo Fabio stai andando fuori tema Nettissimo Non un dubbio Stai andando fuori tema No no Non sto andando fuori tema Parlando di una provvedibilità Simpatica provinciale La Juve ha avuto Un episodio A favore La nostra brava presentatrice L'Inter ha avuto Un episodio a favore Il Milan ha avuto Un episodio a favore Su un errore arbitrare Non un episodio Dubbio Tu vai fuori tema Ha stoppato la palla Con la mano Io ho risposto Una domanda di Vittoria Molto pertinente E intelligente Come domanda Se Dal punto di vista Empatico Sono vicino La Juventus O all'Inter Alla luce Fai quello che vuoi Io ho risposto Io dal punto di vista Impatico ti dico Quello di Pulisic Non era un episodio Dubbio No ma Era un netto Arbitrale A favore Però il problema è Che se lui Se lui rispondeva Alla domanda di Vittoria Dicendo Io sono più verso la Juve L'ho detto Sì però dopo Hai citato degli episodi E lì dove Invece Ho fatto degli esempi Eh no Hai citato Eh ho capito Però giustamente Fabio ti dice Sei arrivato Quello di Pulisi E l'hai definito Dubbio No perché Dubbio È un errore Marchiano Come gli altri Non l'ha visto nessuno Non l'ha visto nessuno Con certezza Tranne tu Tu non l'hai visto Con certezza Tu non l'hai visto Tu e l'arbitro Non l'avete visto Con certezza Perché In Genova si ferma Un episodio Io trovo Io trovo Io trovo Non puoi fare Queste cadute di stile Seguendo quello lì Devo dire Intelligentemente Fuori 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 tema Ma era solo il dubbio Che mi è rimasto qua Scusa Io non sono all'occo Anche se non sono avvocato Come sottoscritto Non sono ex calciatore Professionista Come Giacomo E come Massimo Ma Se noi torniamo A quei tre episodi Per calmare tutti Perché ognuno Non hanno avuto uno Io non ci sto Non è che io ci sto Perché quello di Genova Col Milan Ragazzi miei Io ho cercato anche Di capirlo 150.000 volte Non è una cosa chiara Come il fallo Di Bastoni Col Verona O come la spinta A Genova Di Bissex Su Strootman Non è come L'allacciamento Di Lautaro Martínez A Robocca È come il fallo Di Acerbi Sosimei In area di rigore Non sono robe così chiare Sono robe diverse È verissimo È come il fallo È come il gol Che ha subito il Milan Dall'Udinese Con quel gol Non gol Del giocatore udinese Che non si capiva Mai Saramano Coscia Non è chiaro È chiaro il pugno Di Gatti Certo che è chiaro Il pugno di Gatti È chiaro In quella pari Ci sono due gol annullati Alla Juve Di cui uno che non va annullato Ed è chiaro quello È chiaro che col Bologna C'è un rigore gigantesco Il 94 Come è molto più chiaro Che ce n'è uno prima Il punto qual è Ci sono troppi errori In continuazione Verso una sola direzione Oltre che il campionato Quella direzione È stata presa Anche in Supercoppa italiana È quello che sto dicendo Io poco fa Ho detto che c'è stata Una direzione univoca È l'Inter e la Juve Giacomo non è raccorda La Juve ti sei episodi alternativi Documentami la cosa E poi vado da Massimo Perché voglio sapere Massimo da che parte stai Stai parlando con me O con Massimo No no era per dire Vado da Jack Ma Max guarda che arrivo anche da Jack Mi sembra di aver sentito La domanda mia È stata mirata Quella a Paolo Quando gli ho detto Ma l'Inter Lo stanno favorendo dall'inizio A tutti questi punti dall'inizio E Paolo non mi ha risposto Adesso stavano citando degli episodi Allora Io te ne dico uno Ripeto Io sono del toro E tu lo sai Perciò simpatizzo per l'Inter Forse perché ha giocato mio fratello Perché mio fratello è lì Ci sta Ma il problema è Io non ho mai sentito dire Quando il Verona In Inter Verona C'è stato il fallo su Arnautovic Tutta la vita Il Verona fa gol Nessuno ha detto Ma è così chiaro come i bastoni Guarda ce l'ho qua Ce l'ho qua L'arbitro cosa fa un metro Fa così Avanti No Ma è un metro Sai perché è chiaro È un metro però No aspetta Ma non è falese come qua No ma ti dico French Il problema è che in questi falli Decidono L'arbitro se Il contatto è stato Di 10 5 Ma lì non può intervenire il VAR Perché lui dice Chiaramente ho visto io da qua Che era un metro Si Allora Era campo aperto Su bastoni si perde un fitto No ma C'è uno che dice Ti prego fischia No aspetta Su Arnautovic Io non sto parlando di bastoni Perché bastoni Ha fatto quello che ha fatto Abbiamo visto Io sto dicendo Dato che l'ho visto più di una volta E da lì Arriva il gol del Verona Sì Però se parlato poco di questo Con questo Non voglio dire Che Ce l'hanno Che quindi si cancellino le altre cose No Io vado per quello che sento E quello che vedo Vittoria Come si parla poco Delle riguole si chiede In Bologna Me lo sono fatto mandare Ce l'ho E fallo tutta la vita Poi Non lo dà Perché secondo lui Non ha spinto Può essere quello di Genoa Che stava citando prima Sul discorso di Biscay Mi sembra E l'arbitro ha detto Ma va Ma sarà mica una spinta A differenza di quello di Bastoni Sì Capito Allora Io prendo degli episodi simili Quello di Bastoni È un altro discorso È un altro discorso No no chiaro Ma quello su Arnautovic Che han parlato In pochi Credimi È fallo Tutta la vita No no però Al netto del fatto Che anche lì Ci sia stato l'ennesimo errore vitrale Non possiamo non negare Quelli che ha citato Francesco Vuoi fare una domanda Io voglio fare una domanda È Laya che ha detto Che l'Inter ha tre punti in più Non io Laya Mi ascolti? Prego Qui in studio ci sono due linee diverse Una mia e di Francesco In un senso Una chiarissima Di Giacomo e di Fabio E beh chi sta come Mike Carino Chi sa Questa domanda Vorrei sapere La domanda Vorrei che tu facessi giudice Da questo punto di vista Ecco Da che bagno stai Max? Allora Gli episodi Allora Gli episodi Dell'Inter Ma che c'è un altro ricadro? A vantaggio Sicuramente No c'è la signora Che è uscita Un'entrata No Tenere accorto Magari No no Già che parliamo di guardi e ladri Occhio Perché stai Ma proprio possiamo Tegnere azzurro Oh scusate Ma a proposito Guardate Chi è il ladro adesso? Allora Io sono molto amico Di Walter Mazzarri Allora Concludiamo il teatrino Metti i paraocchi E fai finta che non ci sia nessuno Dai Così abbiamo concluso le citazioni Sono amico di Walter Mazzarri Come lo posso essere di Giacomo Con giocatori con cui ho condiviso degli anni All'interno di una squadra insieme Walter onestamente Non solo si lamenta Di questa finale Che potenzialmente Poteva anche arrivare Poi a giocarsi ai rigori Perché la verità è questa O poteva addirittura Vincerla in 11 contro 11 O addirittura in 11 contro 10 Al contrario Ma in 11 loro E in 10 gli altri Detto questo Anche nella partita di campionato Lui Non è andato in conferenza Se ve lo ricordate Perché poi il direttore sportivo Ha detto Non vogliamo mandare Walter Mazzarri in conferenza Perché poi Ce lo vogliamo tenere Per la partita successiva Che era Mi sembra Con la Juve Partita importante Perché Perché sapevano Che insomma Il fallo La trattenuta Di Lautaro A centrocampo Sulla Botka E quindi L'eventuale annullamento Di quel gol E poi Il fallo da rigore Di Acervi Suosimen È logico Che lui Ce li ha in testa Così come ha in testa Quest'ultima gara Io non vado Semplicemente Solo a È logico Che l'Inter Ha la squadra forte Merita di essere lì Eccetera eccetera Però Bisogna essere onesti Mi sembra Una sequenza Di episodi Che Fortunatamente Sono andati A favore Dell'Inter Mi sembra che Quando c'è un episodio Io ricordo anche Giacomo Non puoi Negarlo Anche la spinta Adesso non mi ricordo Chi era Sul cross Da cui poi è provenuto Lo 0-1 Del Genoa Inter C'è stata una spinta Quello applichi Tranquillamente Il regolamento Io però Ribadisco Non voglio fare Quello che non è In buona fede Continuo a dire Che secondo me Gli arbitri Con questo avvento Sono diventati scarsi E Parliamo di fortuna Può essere anche La fortuna Però c'è una serie Di episodi Io sono d'accordo Più con Con Francesco E con E con Vinci Che ci sono Una serie di episodi Quasi sempre Da quella parte Però Ribadisco Poi magari Arriva il giorno Di ritorno E ci saranno episodi Completamente Al contrario Non lo so Però se Analizzo Episodio Per episodio Mi sembrano Molti gli episodi Che vanno A favore Da questa parte Che non da un'altra Punto Questo è quello Che vedo io Da Miami Ok Appunto ragazzi Siamo tornati insieme E vi dobbiamo Leggere E far vedere La pagina Dedicata allo sport Del mattino Di quest'oggi Perché Segnala il fatto Che Rocchi Durante l'intervallo Si è andato A parlare Con Rapuano Cosa Che solitamente Ovviamente Non succede Bocciato l'arbitro Della Supercoppa Rocchi era stato Severo con Rapuano Già nell'intervallo Di Napoli-Inter Allora Io vorrei partire Subito da Massimo Massimo Normalmente Il designatore Non va E Non so se non possa Comunque non va A parlare Con l'arbitro Durante l'intervallo Anche perché E poi il campo Ce lo ha dimostrato Nel momento in cui Rocchi è andato A parlare Con Rapuano Poi La gestione Un po' quello che diceva Fabio Verga In apertura di puntata La gestione In campo Dell'arbitro È profondamente Cambiata Continuo a dirlo Sono scarsi E però A quel punto Allora è scarso Anche Rocchi Che non avrebbe dovuto Mettere Rapuano Ma Rocchi Ti dico la verità Rocchi come arbitra Non mi dispiaceva Ti dico la verità Però i Rocchi Ha arbitrato Anche una parte La prima parte Di carriera Dove non c'era il VAR È logico Che se questo comportamento È vero Lascia sicuramente Insomma Non c'erano Con questi telefonini Non c'erano Io non so Se poi Serve andare Giù In uno spogliattoio O bastano solo Dei messaggi Perché magari uno C'è il telefono C'è il telefono acceso E si fa Recapitare dei messaggi Da qualcuno Non lo so È certo che L'arbitro Non è una questione Di metro Non metro Non ha applicato Il regolamento Punto e basta Secondo me Non è andato giù A dirgli Guarda che devi Applicare il regolamento Hai fatto delle stronzate Secondo me Gli deve aver detto Questo Questo gli deve aver detto Se è andato giù Come è vero Che è andato giù E lo ha redarguito Gli avrà detto Hai sbagliato Hai sbagliato Hai fatto delle decisioni Sbagliate Però secondo me Anche quella È una mossa sbagliata Perché poi l'arbitro Non è più Secondo me Sereno Nell'arbitrare La seconda parte Della gara E magari Prende decisioni Ulteriormente sbagliate No ma infatti Giacomo Il fatto è che Non è che sia sbagliato Di per sé Che Rocchi Vada da Rapuano E gli dica Devi fare così Devi fare così Un consiglio Da superiore Da colui Il quale è il delegatore Ma è sbagliato Probabilmente Andare in corso Di partita Perché Come diceva anche Max Tu vai a cambiare Degli equilibri Anche mentali Dell'arbitro Che poi abbiamo visto In campo Cambiare Dal giorno alla notte Ha sbagliato due volte Prima A metterlo E poi andare a parlare E a mettere Un arbitro Che secondo me Se poi è successo Quello che è successo Che è andato Negli spogliatoi Già non gli dava Granché fiducia All'inizio Cioè Capisci che è tutto Massimo prima E io non so Questa è una domanda Che magari Posso fare A tutti noi Che siamo qua Compreso Massimo Perché Massimo Ha aperto Una porta incredibile Ha detto Che Rocky Arrivava Da Che non c'era In pratica Il VAR Allora Tutti questi albitri O la maggior parte Arrivano tutti Senza VAR All'improvviso Una domanda Che vi faccio Ti trovi col VAR Dove tu Per la maggior parte Magari Dalla tua carriera Hai arbitrato senza VAR Perché anche questa cosa Io l'ho sentita In un commento 20 giorni fa Ok Secondo me Massimo Ha detto una cosa Che Mi ha ricordato questo E vorrei girarla a voi Secondo voi Non può essere Però Giacomo scusa Però Giacomo scusa Negli interventi Di Cialanoglu Il VAR E non mi vorrei sbagliare Non può intervenire Credo No ma L'intervento Massimo L'arbitro Massimo scusami L'intervento Lo vedi anche senza VAR Perché è campo aperto Eh appunto Appunto È quello che dico Allora vuol dire Vuol dire Massimo Che se non sei adatto Ad arbitrare una partita del genere Ma infatti scusami Non ce n'è E lì Scusa ho finito Sì sì no E lì ha sbagliato Chi l'ha designato Cioè non c'è niente da fare Vi aggiungo un dettaglio Quando ammonisce Per la seconda volta Simeone Che lì deve ammonirlo Se ne accorge il quarto uomo Mica lui Neanche quello che aveva visto Di bello se ne accorge Di bello No ma l'errore Anche lì non vede lui Lui va verso il giocatore Inizio con le mani normali Poi il quarto uomo Gli segnala Che c'è lo step on foot Ok Giallo Allora io ti dico Io ti dico una cosa Che Ma anche voi Ma specialmente Chi ha giocato Un disastro Chi ha giocato L'albitro Se vedo le immagini E Massimo Non so se conferma Dal monitor L'albitro Se ha campo aperto Non puoi sbagliare O sei scarso O non vedi Allora io capisco Nel momento in cui c'è Un mischione Io posso anche Da vedere Calcio d'angolo Punizione O magari mi passano davanti Due giocatori Tu dai la gomitata A Paolo Vinci Io non ti vedo Allora sono obbligato Che mi aiuta Il quarto uomo O il VAR Chiama quello che vuoi Ma il discorso è Che queste immagini Queste situazioni Sono tutte a campo aperto Allora a campo aperto Non hai bisogno del VAR È un ulteriore aggravante E certo Anche perché Ad oggi Rispetto ai nostri tempi L'albitro stava Nel centro Nel centro campo Adesso gli albitri Sono sempre vicini Le cose sono due O sono tre O è scarso No è scarso O non ci vede È scarso E scura c'è qualcos'altro La prima Francesco Qualcos'altro In termini di malafede La prima Io non parlo di malafede Ma è scarso O non ci vede O c'è qualcosa Guarda Io aggiungo un'altra cosa Perché se non torni A secondo tempo E cambi completamente Modo di agire Però se è entrato O qualcuno ti ha spinto All'aggire in quel senso No E' combinazione avvenuta Vediamo il regolamento Ma se è entrato Negli spogliatoi Il tuo superiore Ti ha detto Ma cosa stai facendo Ti ha mandato il TIL Non può essere Ma è il momento Che è sbagliato Quindi è l'aggravante Sulla aggravante Quindi non solo La può essere responsabile Perché già Rocchi Che lo sceglie È enorme l'errore È gigantesco Non si fa sta roba E io aggiungo una cosa Di quello che hai detto La presunzione Certo A me dà l'impressione Da fuori Non me ne vogliono Però mi dà l'idea Che sono presuntuosi Quando senti Perché si sente Non tutti Maresca Comegnano è bravissimo Per esempio No Maresca è bravissimo Comegnano Sì sembra che era fratello Maggiore Ma quando L'altra sera ragazzi Cioè Sembrava che fosse Io non sto dicendo Tutti gli arbitri Sono presuntuosi Io ho detto La maggior parte Mi dà l'impressione Quando sento No non ti preoccupare Ho visto io Invece se vai al monitor E vai al VAR Ti rendessi conto Che forse non l'hai visto Perché non vai Che c'è una tecnologia Che ti può aiutare Perché 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 non vai Paolo Vinci Perché non vai Perché hai un delirio Di onnipotenza Sono specialmente Gli arbitri Abituati senza il VAR Che sono cresciuti Senza il VAR A gestire questa situazione Ma Vorrei dire Richiamare il regolamento Sull'applicazione Del VAR Nel momento in cui C'è un giocatore Se avesse ammonito Qui a ragione massimo Poco fa Quando diceva Non so se Poteva utilizzare Il VAR intervenire o meno Non poteva intervenire Perché non è stato neanche ammonito Era fuori aria Quindi Se l'avesse ammonito Invece Avrebbe potuto Sindacare Su quella Ammunizione Che poteva anche Essere espulsione Perché lui Entra a forbice Al quarto del primo tempo C'è la Noglu Quindi Esatto Poteva anche Valutare L'espulsione Lì Però il VAR Non poteva intervenire Adesso Perché non l'ha ammonito Quindi No ma io poi Io poi comunque Sottolineo sempre Paolo Che un giocatore Soprattutto in mezzo al campo E soprattutto Un difensore Magari una punta Un po' meno Però il difensore Del centrocampista Che prendono Un'ammunizione All'inizio Della partita Quindi al quarto Al quinto Al sesto Ne pregiudichi Ne pregiudichi Sicuramente L'andamento successivo Esatto Perché Da lì Tu non riesci più A essere Diciamo così Libero Sciolto Certo Infatti C'era Noglu Dopo l'ammunizione Non faceva i tecle Non faceva i contrasti Proprio perché Aveva paura Di fare fare Cambia anche A livello tecnico Cioè il giocatore Come diceva Adesso Massimo Soprattutto il difensore Ma vale anche Per il centrocampista Non cerca più L'anticipo Perché se cerchi L'anticipo Lo sbagli E questo ti va via E fallo da munizione Sicuro E quindi questo Impatta anche Dal punto di vista Tecnico Sulla gestione Della partita Del giocatore Poi c'è il solito Discorso Quello che diciamo Prima Giacomo diceva Anche se fai qualcosa Nel tunnel D'ingresso al campo Puoi essere Ammonito Espulso È vero Però sappiamo benissimo Voi due che avete giocato Lo sapete ancora meglio Che l'arbitro Quanto più È Dubbioso O di scarsa Personalità Aspetta sempre Un po' Prima di ammonire Perché è molto raro Che l'ammunizione Arrivi nei primissimi Minuti di gioco Tanto che Credo me lo possiate Confermare voi C'erano Soprattutto Qualche anno fa Alcuni difensori Che Molto astutamente Giocavano Sull'intimidazione Fisica Nei primi minuti Per poi fermarsi Dopo il primo I primi due falli Per evitare Di prendere l'ammunizione Max Giacomo Ferri Mi dice che tu facevi così Perché tanto sapevi Che al primo minuto Guardate il monitor Fabio Guardate il monitor C'è la maglietta bianca Eccolo lì Però voglio dire Questo La dice ancora lunga Su quell'intervento A metà partita Perché nel momento In cui interviene A metà partita Ha bonificato Ha amnistiato Tutti i comportamenti Voi Voi È chiaro Poi dopo Fabio Scusami Dico una cosa Su quello che hai detto Gira e rigira Alla fine vuol dire Che sei scarso Perché se io non Ammonisco al primo minuto Al secondo Al quarto Che è O rosso o giallo Tutta la vita Non è che Vabbè A un metro Va avanti No Se è giallo Anche a un minuto Devi ammonire Se non lo fai Vuol dire che sei Scarso Io ho usato il termine Scarsa personalità Diciamo che stiamo dicendo La stessa cosa Poi ripeto Sempre nel campo Dell'ipotesi Qui veramente Siamo nel campo Dell'ipotesi Se al quarto minuto Avesse ammonito Cialanoglu Poi magari Cialanoglu Il secondo Il terzo intervento Che ha fatto Se li risparmiava Perché sapeva già Di essere ammonito È un giocatore esperto Però dava un rendimento Più scarso Poteva intervenire diversamente Massimo Quindi per te Come diceva Jack Questi arbitri Perlomeno Quelli di cui stiamo parlando Peccano di Fermalosità Peccano di onniscienza Peccano di non essere Abbastanza preparati Evidentemente Ma no Poi c'è anche il discorso Di chi c'è al VAR Nel senso Che se c'è un arbitro Forte Che arbitra la partita E non vede qualcosa E l'arbitro che c'è al VAR È magari Più acerbo Con meno personalità Con meno esperienza Magari Ha paura Di richiamare Un arbitro Importante Infatti se voi guardate Orsato È uno che rimane Quasi sempre Sulla propria decisione Che ha preso Sul campo Non dico quasi mai Però difficilmente Si piega Al VAR E io credo Che l'arbitro bravo Sia quello Che si piega E che è poco incline Andare al VAR Secondo me Quello è l'arbitro bravo Ed è un arbitro Che comunque Magari fa qualche errore Però Tiene un metro Diciamo così Di indirizzo Della partita Sempre molto equilibrato Poi puoi fare Puoi fare degli errori Se invece Metti Ad arbitrare Una partita Un arbitro Comunque Che ha poca esperienza Che ha poca personalità Succedono queste cose Io mi Scusate Ma io mi sono Già scupito Quando è stato Designato Rapuano Che peraltro Diciamo anche Un altro dettaglio Ma Rapuano Puoi arbitrare Monza Inter Che è l'ultima Di campionato Dell'Inter E poi Lo riarbitri Una settimana dopo Alla finale Di Supercoppa Ma scusa Ma che intelligenza hai Di mettere Lo stesso arbitro Che ha arbitrato La squadra In finale Una settimana prima Ma mettine un altro Ne hai lì 20 Ma non è che ne hai lì 3 E devi girare La cartina Su 3 Mettine un altro Mettine uno Con un grande esperienza Giocano La squadra Campione d'Italia È la squadra Che ha vinto La Coppa Italia È comunque Una competizione Importante Meno importante Comunque è una competizione Che stiamo esportando In Arabia Stiamo esportando All'estero Ma metti un arbitro Di livello Perché Guarda Ti dico anche di più Ha elevato anche Il sapore Della partita Perché Adesso Lasciamo stare Poi chi ha vinto Non ha perso Ma Se finisce la partita In 11 contro 11 Aveva già ancora Più il sapore Di poter pensare Che magari La poteva spuntare Ancora al Napoli Che ne sappiamo noi Non lo sappiamo E' certo che in quel momento L'Inter che è più forte Gioca in 11 contro 10 Cioè Uno Non guarda più neanche la partita Onestamente Allora Posso fare un ultimo Appunto veloce Sulla notizia Che hai lanciato Di questo articolo Che è uscito Da parte del mattino Ma volevo leggerti Proprio un trattiletto Perfetto Te lo leggo Allora Si sarebbe Intrattenuto a lungo Si parla di Rocchi Proprio per improverare L'arbitro Sul metro Di giudizio Che stava adottando In campo E poi continua A scrivere il giornale Un conto Alla direzione All'inglese Un altro Trascurare Interventi Da cartellino giallo Da qui il cambio Repentino Dell'atteggiamento Nella ripresa Il Napoli Che ci è finito dentro Il giudizio è In ogni caso Negativo Alla prova di maturità Rappuano non viene promosso E chi sta Quanto dovrà aspettare Per essere chiamato In un altro big match Tutto verissimo Quello che Mi lascia perplesso Su cui mi piacerebbe Avere una risposta Che non arriverà mai Ok È Il condizionale Dubitativo Cioè il mattino Fa questa pagina intera Ripeto Non entro nel merito Anch'io ho giudicato Negativa la direzione Di Rappuano Poi Con Massimo Massimo non è d'accordo Con quello che dico io Che reputo Che il più grave errore Di Rappuano Si è stato di aver cambiato Completamente Metodo di arbitraggio Tra primo e secondo tempo Ma pazienza Sono opinioni differenti Indipendentemente dal merito Il mattino fa Una pagina intera Su un'illazione Rocchi sarebbe Sceso negli spogliatoi A parlare con Rappuano Ora Se lo ha fatto Sono d'accordo Con quello che è già stato detto È gravissimo Perché tu da designatore Scendi nello spogliatoio Parli con l'arbitro Non dico che lo intimidisci Per carità Però In corso di partita Non dico che lo intimidisci Però Lo condizioni Lo condizioni Inevitabilmente E infatti Ha cambiato completamente Metodo nel secondo tempo Però non sarebbe Allora O Gli esimi colleghi del mattino Hanno delle prove E Confermano questo E a questo punto Chapeau Al mattino Che ha fatto uno scoop In termini giornalistici E Critiche Oltre che a Rappuano A Rocchi Perché ha fatto una cosa Che da designatore Non avrebbe dovuto fare Certo Però qui l'articolo Dice sarebbe Lascia molto sul dubitativo E se non è così? E se viene fuori che Rocchi Non è sceso Siamo sbagliato a parlare Fino ad ora Non è che abbiamo sbagliato A parlare fino ad ora È qualcuno Che ha fatto Una pagina intera Ipotizzando qualche cosa Che non sto dicendo Non sia successo È perché non ero lì a vedere E non posso dire io Non è vero Rocchi Non è entrato negli spogliatoi Però mi piacerebbe Una risposta ufficiale Da questo punto A questo punto Sempre sul tema Gli arbitri Che dovrebbero parlare E dialogare Mi piacerebbe Una risposta ufficiale Da Rocchi Che nel caso dica Questo articolo di giornale È totalmente inventato Io non sono sceso Negli spogliatoi E a quel punto Come la mettiamo? Beh un po' come A quel punto Devo fare una mea colpa Su quanto abbiamo detto Perché No non noi Chi ha pubblicato Una notizia Noi ci abbiamo detto Commentando questa notizia Noi commentiamo la notizia Allora eccoci ragazzi Dobbiamo Leggervi L'abbiamo diviso In due parti Quindi vi leggiamo La prima parte Un estrapolato Delle dichiarazioni Rilasciate dall'arbitro In anonimato Ieri Alla redazione Delle iere Perlomeno Il servizio è stato mandato Ieri Io non so quando sia stato Registrato Eccetera 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 Sicuramente dopo l'interverona Perché ci sono le immagini Certo perché ci sono le immagini Però io non so se sia una roba Un episodio avvenuto L'altro ieri O una settimana fa O subito dopo L'episodio della partita Ad ogni modo Leggiamole Eccole qua Grazie regia Allora Sono un arbitro di serie A Attualmente in attività E voglio segnalare Quelle che per me E per altri arbitri Sono delle gravi anomalie Del sistema arbitrale In Italia Quest'anno Ci sono stati Tantissimi errori Degli arbitri In campo E al VAR Che sono davvero Inspiegabili Soprattutto per noi Che siamo degli addetti E lavori Attenzione Per cui continua Per esempio È il caso del rigore Negato al Bologna In Juventus Bologna O del fallo di mano Di Pulisic Prima del suo gol In Genoa Milan Ed è il recente fallo Di Vastoni Su Duda In Inter Verona Poco prima Che l'azione proseguisse Se arrivasse Al tanto contestato Gol dell'Inter In tutti questi casi Inspiegabilmente Non ha sbagliato Solo l'arbitro In campo Ma anche Il VAR Che Nonostante Immagini chiare Ha deciso Di perseverare Nell'errore commesso E qua Ragazzi Concedetemi Un detto latino Che calza pennello Errare umanum est Perseverare Diabolicum Ovest Perché Senti Francesco Ero seria Allora Va bene Guarda Vengo da te No no Cominciate sempre con me Sto leggendo delle cose Importanti Quindi mi chiami Sto leggendo delle cose Importanti Arrivo Mi sto documentando Su una roba No ha detto a te Devi risponderli No no Prego prego No no Declino Ha detto Francesco So che Se chiedo A Massimo Abrambati Mi risponderà presente Massimo Sono delle dichiarazioni Che da parte di un arbitro Che dice di essere in attività Sono clamorose Cioè denuncia Delle cose che noi Sì avevamo detto Ma noi non siamo addetti Ai lavori arbitri In campo Di campo Di campo Di campo Se lo dice Se lo dice Invece Un addetto Al lavoro In prima persona Forse Forse Ascolta 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 Ma mettere la faccia E stare anonimato Non mi piace Io se devo dire una cosa Anche a discapito Di quello che mi è successo Nella mia carriera E anche dopo la carriera Ho sempre detto In faccia le cose Non è che mi sono Messo una Una maschera davanti O mi sono fatto Intervistare al buio Ragazzi Per me potrebbe essere Anche il salumiere Di Porta Garibaldi Questo che parla Che ne so Che è stato imboccato A dire determinate cose Però garantisca La redazione delle Iene No adesso la magistratura Invece indagherà Per forza Perché l'AIA ha risposto Io non lo so L'AIA ha risposto Dopo direggiamo Anche la risposta dell'AIA Arriva Arriva Per quanto E poi vorrei capire Il livello di quest'arbitro Secondo Perché il livello È importante Primo Quanto è coinvolto All'interno del calcio Quello che conta Magari è un arbitro Di Lega Pro Che ha fatto due partite In Serie A Era scarso E l'hanno messo in Lega Pro Vedi che qui Sto difendendo la categoria Arbitri Sì sì Per carità Ti vorrei dire una cosa Ma ragione Quindi Non lo so Non lo so C'ho tanti punti di domanda L'anno scorso Lo stesso Lo stesso Che ha fatto l'intervista A questo arbitro Che è Filippo Roma Mi ha fatto l'intervista Qui a Maieni Per le Iene Per quanto riguarda il doping Quando mi hanno telefonato Io non ho mica detto No ma io parlo Ma mettetemi una roba davanti Eh Io parlo e dico E ho attaccato anche Delle persone Ho attaccato Delle Ho attaccato la federazione Scusa era per il doping La Juve Diciamo così Io giocavo ancora Giocavo in altre squadre Quindi io non ho mai giocato la Juve Quindi come potevo far sapere io Questa domanda te la faccio Max Perché Allora intanto conosco La tua onestà intellettuale Quindi so che se tu conoscessi Una roba di questo genere Te l'avresti probabilmente raccontata O cose del genere Però Io reputo che Spesso e volentieri In televisione si facciano dei servizi Ad hoc Per riempire dei vuoti Succede in tutte le trasmissioni Anche di successo Come le Iene Che tra l'altro sono Delle trasmissioni interessantissime Che hanno anche delle cose da raccontare Molto importanti a volte Eh Anzi molto spesso Per fortuna Però poi Quando si va Sistematicamente Sempre nella stessa direzione E che lo fa sempre lo stesso personaggio Io inizio a non crederci più Perché dico questo? Perché in un momento in cui Tutta l'attenzione È spostata su qualcosa Di ben preciso Tu fai un'intervista E fai un servizio Ben 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 creato Da cima a fondo Con tanto di personaggio Misterioso Coperto Con voce camuffata Che Tra l'altro mi parla Dal punto di vista arbitrale Con secondo me Un livello di scarsezza altissimo Perché Mette in dubbio La goal line technology Mette in dubbio Il fuorigioco Semi-automatico Che è stato appena fatto adesso E fa delle relazioni Mette in dubbio Il frame Mette in dubbio il frame E quindi Forse capisco perché Non arbitra più E forse perché Abbia voglia di parlare Di una categoria Ammesso che È un'ipotesi Abbia voglia di parlare Di una categoria La quale appartiene Ma della quale Sputa ogni roba Contro Rocchi Contro Laia Contro la FGC Contro qualsiasi cosa Parlando anche di Probabilmente Di qualcosa di falsato Se si è avanti in questo modo Il concetto è uno solo Filippo Roma Ha fatto un servizio Su Pjanic Per tre anni O mettendo un sfracco Di robe Allora Le cose O si fanno A tutto tondo A 360 gradi Sempre Oppure in questo caso Secondo me Come dice giustamente Massimo Se tu porti delle prove Così pesanti Quale motivo hai Di nasconderti Dietro la telecamera Anche perché poi Scusatemi Ma nell'ambiente Se fosse uno di quelli Che ancora in Serie A E non mandato Con tutto rispetto In Lega Pro O da altre parti Non lo beccherebbero In tre secondi e mezzo? Io dico una cosa Paolo Che effettivamente Sono d'accordo Con quei magistrati Che tutte le denunce Anonime Le cestinavano Non davano nessuna importanza Proprio perché Effettivamente Non avevano Dei riscontri oggettivi Sulla Sulla faccia Di una persona Che potevano essere Quindi soggetti Di ipotesi Ma massime Secondo me Solo un approfondimento Da parte Degli organi competenti Può manifestare Questo arbitro Che si è celato Questo sedicente Arbitro Che si è celato Potrebbe essere Come diceva Massimo Il salumiere Di Porta Garibaldi Potrebbe essere Anche Un arbitro Depresso Da risultati negativi Io non darei Troppa importanza Anche se è un botto Fortissimo Questo A orologeria Proprio nel momento In cui Il VAR La classe arbitrale È sotto processo Giacomo Io Capisco Dalla tua espressione Perché non sei d'accordo Con Paolo Vinci Non sono d'accordo Su questa cosa Ha credibilità Questa cosa No non lo so Su tutta la cosa Ma il problema Sai Non sono d'accordo Su le dichiarazioni Che ha fatto Questo presunto arbitro Sai perché? Perché se io Voglio fare delle dichiarazioni Non faccio delle dichiarazioni Che sappiamo tutti Da una vita Cioè Di No ma mi spieghi Allora Quando tu mi dici Che stai parlando Sei uno che sei all'interno Ma mi dici Che cosa Hai detto Che noi non sappiamo Da esterno Niente Cosa? Allora Tu dimmi determinate cose Che tu hai saputo Dall'interno Vuoi essere anonimo? Io posso condividere o meno Non mi interessa Però io Quello che ho letto Quelle dieci righe Mi veniva da ridere Cioè Ha fatto tutta una scenata Dicendo le cose Che sa tutto il mondo Allora Io se ti dico una cosa Sono All'interno di una società Chiaramente Sono un tesserato E voglio dichiarare Determinate cose Non ti dico cose Che voi fuori sapete già Io ti dico cose nuove Che ci sono all'interno Della mia società Guarda caso Un servizio Allora Ha detto questo Francesco Perdonami Non ci faccio neanche caso Mi viene da ridere A vedere queste dieci righe Ma cosa mi ha detto? Cosa mi ha detto? Ha fatto solo una figura Di quello che Oltretutto Mentre venivo qua Ho sentito delle dichiarazioni Del presidente degli arbitri Che ha detto E allora Primo metta la faccia Che così possiamo rispondergli E poi gli risponderanno Questo ha detto Da il presidente degli arbitri Però Vittoria Ecco perché mi viene Non da ridere Da piangere Perché io Al limite voglio sentire Delle cose che io fuori non so Ditemi cosa c'è In queste dieci righe Che non sappiamo O è Fleximan Quello che c'è sotto il coso Che è quello che sta tagliando Gli autovelo Fin Italia Francesco Francesco il problema È che deve dire Delle cose che noi non sappiamo Sono d'accordo con te Non c'è niente di nuovo Non c'è niente che aggiunga qualcosa Se non Casino Creato Secondo me Ad hoc Verso due squadre Neanche una Perché lui ci mette dentro Anche il Milan Nel video di ieri Lui mette Come se Inter Milan E Juventus Fossero state aiutate Tutte e tre Il succo del discorso Tu guardi Viene quel filmato Tu aiuti le vigili Fa vedere che Inter in una partita Juventus in un'altra E Milan in un'altra Sono stato aiutato Aiutate Questo è a discapito Di che cosa Di Roma Di un tifoso romanista Del calcio del sud Che magari quest'anno Non torna a vincere Perché c'è il nord Che rigoverna Il potere della Juventus Alla quale siamo abituati A sentirne di ogni Da una vita Il Milan Che comunque è una squadra Di Milano L'Inter Che è la squadra Che continua a comprare E a vincere Rispetto agli altri Perché è una squadra Con comunque una proprietà Cinese Nonostante i debiti Ma loro vogliono Focalizzare l'attenzione Secondo me Con questo servizio Sul calcio del nord Che ha ancora una volta Vivo terra di su Poi l'anno scorso Ha vinto il Napoli Il merito Francesco Io sul servizio Quindi non ha senso Il servizio È populista No ma sul servizio Posso dirti Io sul servizio Non voglio Non dico niente Sul servizio Io voglio solo dire Che per quello Che mi ha fatto Sul soggetto che ha tenuto Quello che mi ha fatto vedere Mi viene da ridere Ma certo Hai capito Il servizio Poi quello che ha detto Francesco Non mi interessa Secondo me è un'altra cosa Sì Questo Se vogliamo rimanere Su queste dichiarazioni Sì È quello che mi fa ridere Dico ma È allora Certo Cosa hai detto Che non sappiamo noi fuori Cosa Parca la magistratura Adesso dovrà indagare Su chi è questo soggetto Perché avendo laia risposto E avendo chiesto chiarimenti Certo Adesso andranno a capire Quindi si capirà Quale arbitro Di che tenore parliamo Se magari è orsato sotto la maschera Oppure se Non lo so Mia zia Che andando a fare la spesa È andata alla Iene A prendersi 100 euro Per intervenire In una categoria dove C'è già tanto scompiglio Dove comunque L'operato Potrebbe essere di gran lunga Migliorato No? Abbiamo parlato Fino a 10 minuti fa Di tutti gli errori Elencandoli Vai a creare Un ulteriore scompiglio Che sicuramente Non apporta valore Se non scredita Una classe arbitrale Che in questo momento Lascia la cune Ovunque Ma più che screditare La classe arbitrale Questo scredita Chi l'ho messo in atto Perché Già nel blocco precedente Mezz'ora fa Io personalmente Avevo Espresso la mia Perplessità Sul Sul concetto Di un articolo Di giornale Basato su un Sembrerebbe Si dice Figurarsi cosa penso Di un presunto Arbitro Perché lo dice lui Di essere arbitro Che va In anonimato Volto coperto E tutto Guarda caso A prendersela con Juventus Inter e Milan Citando tre episodi A favore Di queste tre squadre E dicendo che sono La prova di un sistema Questa è spazzatura Vera e propria Un'operazione di Estrapolare Il testo Di quanto dichiarato Dall'arbitro anonimo Che ieri ha parlato Alle Iene E così ha proseguito Questa situazione È diventata Insostenibile E sta condizionando Le carriere Di molti di noi Fermati già qui Scusa Perché già È una dimostrazione Effettiva Che la sua carriera È condizionata Ecco E quindi In un certo qual senso Sta facendo Si sta togliendo Dei sassolini Dalle scarpe Si sta vendicando Esatto Sta mandando L'ipotesi Allora Se costui È veramente Un arbitro Perché non è neanche escluso Come diceva Brambati Se uno parla in anonimato Col cappuccio Eccetera Può essere chiunque Quindi non è neanche escluso Che questo sia un millantatore Un figurante Ma la domanda che io mi pongo è La redazione delle Iene Accetterebbe mai Che un pantoccio Ah no? Non lo so No io non credo Io conoscendo le Iene Non credo mai In una roba del genere Però voglio capire Perché un arbitro in attività Si presta a fare una cosa del genere Che verrà scoperto Allora potrebbe essere Un totale Una totale invenzione O potrebbe essere Un esempio Lo ha toccato adesso Paolo Vinci Un arbitro scarso Che ha nasato Che la sua carriera Sta per finire Che a fine stagione Lo dismetteranno E a quel punto Ti vendi E quindi prova a mandare Dei messaggi paramafiosi E con questo messaggio Lo tengono a fine anno Non penso Non penso neanche io Poi si abbia sbagliato i conti O consuma delle vendette personali Ma come ho detto Secondo me siamo a livello Della spazzatura Ecco Proseguiamo allora Regia per favore Di nuovo con le dichiarazioni Allora dicevamo Beh Da come viene valutato Un arbitro dipende Qua ragazzi Arriva la parte interessante Dipende il fatto Che questo Continua ad arbitrare O meno Se le valutazioni Dipendono Da dinamiche Diciamo Politiche Allora in questo modo C'è il rischio Che si falsino I campionati Molti di noi Hanno la forte sensazione Che non sempre I voti Le valutazioni E le eventuali Retrocessioni O dismissioni A fine anno Dipendano esclusivamente Dalle nostre prestazioni Durante le partite Ogni volta Che un arbitro Viene chiamato Al VAR E qua ragazzi Che bisogna fare attenzione Può essere penalizzato Nel voto Che riceve Dagli osservatori A fine partita E Se chi valuta Gli arbitri Sbaglia Nella valutazione Siamo poi sicuri Che fanno carriera Solo e sempre Più bravi E che vengono Retrocessi Più scarsi Qui probabilmente L'ipotesi Di Giacomo Trova molta Molta Verità Con le virgolette Devute del caso Ma attenzione Noi abbiamo capito Di più Noi abbiamo capito Da queste dichiarazioni Che a quanto dice Costui Se l'arbitro Viene richiamato Al VAR Avrà La possibilità Di avere Una negazione Un voto Una valutazione Negativa E quindi Il retropensiero è Ma allora Il fatto che Il VAR Ogni tanto Non chiami E perché Chi sta al VAR Viene intimidito Magari da chi In campo Dal non essere Chiamato Proprio perché Teme di avere Dei voti Bassi Però scusami Sarebbe una roba Clamorosa Questa mi sembra Una contraddizione In termini Paurosa Allora mi spiego Se noi Partiamo Dal presupposto Che Nel sistema Se l'arbitro Viene chiamato Al VAR Viene poi Penalizzato Il suo voto Allora Viene da chiedersi Ma come mai Allora la classe arbitrale Ha introdotto il VAR Sapendo che poi Diventa uno strumento Se fosse così Uno strumento Per valutarli Negativamente Cioè se il tema è Se tu arbitro Decidi sul campo Bene Se tu arbitro Vai al VAR Io Nei giudizi Io Designatore Nei giudizi Ti penalizzo Allora è evidente Che la categoria Degli arbitri Avrebbe dovuto Opporsi Strenuamente Totalmente All'inserimento Del VAR Mi sembra un controsenso In termini Così come Mi fa abbastanza Sorridere La frase iniziale Iniziale Perché il VAR deve aiutare Appunto Il VAR è stato introdotto Mi ha fatto molto sorridere Leggere questa seconda parte Delle dichiarazioni Che la redazione Ci ha scorporato Per permetterci di vederle meglio Quando alla seconda riga Praticamente Delle sue dichiarazioni Questo dice Da come un arbitro Viene giudicato Dipende Se va avanti Ad arbitrare o no Caspita Caspita Studenti a casa Guardate Da come uno studente Viene valutato Nei compiti in classe Dipende se sarà promosso o no È una clamorosa rivelazione Io però Una cosa velocissima Voglio dire Se tu inserisci Una regola del genere Dove Hai Detto a tutto il mondo Che col VAR Poteva darti una mano Tu Se l'hai messa a te Come arbitro O il responsabile Degli arbitri Hai penalizzato Ancora di più Chi arbitra Cioè Ma io dico È un controsenso Ma come fai a fare Una roba del genere Perché questo? Perché secondo me C'è una grave scissione Tra varisti e arbitri Enorme E guarda caso Quest'intervista Viene fuori Proprio nel momento Clu di questo casino Cioè Il concetto qua Secondo me Non è tanto Per far casino Sul campionato Ma è per far casino Sulla classe arbitrale Sulla Lega Cioè Qualcuno che sta In questo momento Che vuole Rocchi fuori dai giochi O qualcuno Che risponda Sono responsabile Di questo casino Perché Si parla La settimana Che nei palazzi Della Lega Eccetera eccetera C'è un Una scissione enorme Tra varisti E arbitri stessi E guarda caso Lui parla di questo Nel filmato Scusami Quando io ho detto Che gli arbitri Arrivano tutti Hai un voto negativo Siamo d'accordo Che a fine partita Poi dopo Andranno tutti bravi Perché Guarda che Quello che ha detto Sono delle cose Che non vanno di pari passo Quello che ha detto Un mese fa Che io ho ripetuto prima Che secondo me Era una cosa interessante La maggior parte Arrivano tutti Che non c'era ancora Il VAR Certo E quello è un problema Per tanti motivi Uno per quello che stiamo Raccontando adesso Due perché Se io Inizio ad arbitrare Senza VAR Nel momento in cui Mi metti La tecnologia Che mi aiuta Io l'accetto poco Certo Ma anche perché Chi è che fa vedere A tutto lo stadio E la gente a casa Che si rende conto Di aver fatto una cavolata E quindi si fa correggere Da uno che ha lissone No però Questa regola Del fatto Del voto in meno Mezzo intero Quello che è All'arbitro Se vai al VAR È una cosa proprio da paura Massimo Più che altro Che se davvero Ci dovesse essere Una verità In questo Vale a dire Se davvero Un arbitro Dovesse avere Un mezzo voto in meno Quello che è Se viene Se dovesse essere Richiamato dal VAR Cioè Questo Sarebbe clamoroso Una contraddizione Una limitazione Il fatto del Perché allora Hai messo il VAR Cioè Una serie di domande Sorgono In maniera Ovvia Ma sai che sono qui A ascoltarti Che mi gira la testa Non ci ho capito niente Te lo giuro Sono qui ad ascoltarti Da un'ora Ma non ho ancora capito Cioè Io Quella persona Per me Che ha parlato Per me Non è attendibile Punto Quindi per me Saltiamo già Al prossimo argomento Cioè Non la tengo Neanche in considerazione Io non ci credo A questa persona Che è andata a parlare Alle Iene E che Ricopre un ruolo Perché Quella È il punto Anche fondamentale Il punto fondamentale è Ma che ruolo Ricopre È un arbitro Di Lega Pro È un arbitro Ancora in attività Ma che arbitra Tutte le domeniche Io non credo Che sia andato lì Orsato Guido Maresca Non credo Proprio Anche perché Sarebbe Consegnare la lettera Ci sono due cose Che non vanno bene L'anonimato Prima di tutto E secondo La mancanza Di riscontri oggettivi Non ci sono riscontri oggettivi Ha detto cose Che tutti sappiamo Allora Vediamo Qual è stata La risposta Dell'AIA Perché Ha risposto Abbiamo la grafica La leggiamo insieme AIA Allora Attenzione L'Associazione Italiana Arbitri Ritiene inaccettabili Le accuse lanciate ieri sera Pertanto In forma anonima Peraltro in forma anonima Tramite una trasmissione televisiva Si tratta di illazioni Che non hanno alcun fondamento concreto Se qualcuno ritenesse Di avere elementi concreti Su quanto dichiarato Durante la trasmissione Da parte di una persona Con il volto nascosto E la voce alterata Si faccia avanti E segue i canali ufficiali Portando le prove Noi Confermando la fiducia A Gianluca Rocchi E a tutta la sua commissione Riteniamo che invece Vi sia assoluta Insussistenza Delle accuse lanciate Riteniamo che Se dietro a tale mostra Ci fossero motivi Di politica interna Sarebbe un fatto Molto grave Perché Questo significherebbe Non volere bene A questa associazione Che è quello Che diceva Francesco Pini Giacomo Ferri E Paolo V Cioè tutto il nostro Parterre Francesco riparto da Fanzi Fabio scusami Questo è in 15 righe Una spiegazione Elaborata Dettagliata La farissima però Ma Completa Esaustiva Esaustiva eccetera Di quello che io Ho sintetizzato In una parola Spazzatura Sì sì Francesco Io Non sono d'accordo Con tutti Non c'è nulla di nuovo Non si aggiunge Niente interessante Si fa solo casino In un momento in cui Ce n'è già parecchio E questo per avere Un po' più di attenzione Non c'è solo gente Sui social Che cerca il click O il like in più Ci sono anche Programmi che in certi momenti Cercano più ascolto Con delle robe come queste Però E poi E poi la chiudo Mi sembra assurdo Giacomo Che comunque Una presunzione Quotata E riconosciuta Come le Iene Posta aver accettato Un figurante Quindi sicuramente Una persona Ma su quello Scusami Vittoria Su quello io Non giudico Perché loro avranno Deciso Che questa situazione Allora stava bene L'hanno data in onda Cioè su quello Si sono presi loro La responsabilità Di mandare Questa intervista E però anche qui Allora noi stiamo parlando Al condizionale Un po' come L'argomento Il mattino di prima Però comunque Quando uno È anonimo Tu che sei all'esterno Cioè Come ha detto Massimo Abbiamo detto tutti qua Cioè Non ha peso Scusate Hai capito Sta dicendo una cosa Troppo importante Lo stanno dicendo tutti Le Iene Io non ci posso credere Che mettono lì uno Che non è un arbitro A dire che è un arbitro Perché li conosco So come ragionano E come lavorano Quindi magari è un arbitro Di basta Senza entrare Nella precisazione Del caso Le Iene Stanno seguendo Da due anni E se si riaprirà Il caso Lindo Rosa Sarà soprattutto Merito di un Grandissimo personaggio Delle Iene Che è Monteleone Che fa un lavoro Pazzesco E che mettono Delle persone Davanti alle tre camere In un caso Di omicidio nazionale Persone senza veli Non nascoste Non arrivano personaggi A parlare a caso Di qualcosa Che non è successo Che è successo Qui Di fronte a una cosa Di cui Parliamo sempre di calcio Quindi con una gravità Ovviamente Cento miliardi di volte Inferiore Mettere uno così Alla mercedi tutti In un momento di casino tale Per la FGC La Lega E per l'AIA Che senso ha Se tu non lo fai vedere In faccia Perché a questo punto O lui parla in questo senso Per poi dire Ho voluto far questo Perché tanto io me ne vado Perché mi fa schifo Il lavoro che faccio Perché non credo Nelle istituzioni della Lega Perché non credo Nell'AIA Non credo nella FGC Non credo più Nel calcio italiano Puoi dire quello che vuoi Ma buttarla lì così Per far fessi tutti Noi ovviamente Ci crediamo Perché stiamo in buona fede Noi emittente Ci mancherebbe Ci distorciamo No? Poi verrà fuori questo nome Ragazzi Perché è impossibile Che non venga fuori Ripeto Mi sembra strano Perché l'AIA risponde La magistratura Interverrà Però Vito Nei prossimi giorni Vittoria perdone Velocissimamente Ma se poi La trasmissione Ha deciso di mandarlo in onda Secondo me è un'altra cosa Io vorrei rimanere Su questo anonimo Che ha parlato Perché si sta parlando Di arbitri Perciò del calcio La cosa della trasmissione Secondo me È un altro discorso Perché non potremmo mai Sapere noi Come facciamo a sapere? Giusto? Noi possiamo commentare Questo Ci si può arrivare No Commentiamo quello che vediamo Noi commentiamo le parole Che ha detto Questo presunto arbitro Giusto? Sì Ok Allora Non ha detto niente Punto La prima dichiarazione Però la seconda Sul fatto che Il poter essere chiamati Dal VAR Ti può penalizzare Nel giudizio Ma ragazzi Ma allora Mettiamo qua Uno Anche noi Lunedì sera Dicendo che è un ex arbitro Uno che ha contatti Con la Serie A Con la Lega Comincia a farlo a parlare Dice robe peggiori Facciamo casino anche noi così? Questo è il modo di fare televisione? È costruttivo? Noi però stiamo ipotizzando Che in buona fede Si è effettivamente un arbitro Nessuno ha detto questo Ma non porta niente di diverso No no D'accordo Ecco perché Francesco Secondo me noi Parlo per me Ma dico noi Perché siamo qua noi Certo Dobbiamo commentare solo le parole Che ha detto lui Che non hanno senso Non hanno senso Cioè è nulla Lui Allora Fabio ha detto spazzatura Per me nulla È ancora peggio della spazzatura E c'era Giacomo Ferri Che voleva rispondere a Massimo Brambasi Anche sulla rosa Della Juventus Sì No Sulla rosa della Juventus Allora Se prendiamo le due rosa A livello di organico Non c'è paragone Sulla carta Però Però Io voglio dire È stato citato Che è andato via Bonucci Non giocava mai È andato via Paredes Non ha mai giocato Non lo sconso L'unico era Di Maria Di Maria Che ha fatto delle partite E poi purtroppo Ha avuto dei problemi fisici Ma detto questo Io sulla carta Sono d'accordo Non c'è partita Anche se Secondo me Per esempio Il Napoli sulla carta È più attrezzato Della Juve Ma è indietro Quattro punti Quanti punti è dietro Della Juve La Juve sta facendo Secondo me È un campionato L'ho detto anche in altre occasioni Già dall'anno scorso E con l'esperienza Dall'anno scorso Quest'anno Sono ancora migliorati Sotto l'aspetto delle prestazioni Ma Detto questo Lì davanti Ragazzi c'hai Chiesa Chiesa Vlaovic Milik Adesso è andato via Ken C'hai Kostic Ok Dietro c'hai Scesni Danilo Bremer Allora Ok Non sto dicendo che la rosa È uguale a quella dell'Inter L'organico ogni tanto Segna anche ultimamente L'organico L'organico È più alto Però la Juventus È Guarda a casa La squadra con l'Inter Più costante in assoluto Quest'anno Sì Ma questo è giusto Il problema è un altro Ma si dice quest'anno però Scusami Giacomo Esatto quest'anno Cioè partiamo da agosto È quest'anno che lo dici Perché quest'anno Cambiasso È diventato un giocatore Straordinario Che non si sapeva Che aveva queste qualità Ci sono giocatori Che rendono Molto di più Bremer Non è lo stesso Dell'anno scorso Perché Bremer È un altro giocatore L'anno scorso ha fatto bene Massimo L'anno scorso Bremer ha fatto bene Sì ma non come quest'anno No l'anno scorso non ha fatto No l'anno scorso Non ha fatto Quello che sta facendo Quest'anno Bremer non ha fatto Ricordiamoci le prestazioni Col Napoli E qualche altra prestazione Bremer Pestava i piedi per terra Come diceva il vecchio Il vecchio Gigicchio Secondo me Chi? Secondo me Radici Gigi Radici Ah Secondo me Secondo me La Juve Grazie anche al lavoro di Allegri Io Quando c'era da criticarlo Io l'ho Stracriticato Allegri Però c'è da dire Bisogna fare Tanto di cappello A questo allenatore Che in silenzio Con tutte le critiche Che aveva Con una dirigenza Che non c'era più L'è stata annientata Ma che è anche quella di prima E ho criticato anche quella di prima Perché secondo me Arriva bene che Rubini Non erano all'altezza Infatti poi abbiamo visto Com'è finita Io credo Che ci sia Un grande dislivello Tra L'organico Tutto quanto Inter Juve Poi che quest'anno La Juve Anche con questi giocatori Come hai detto tu Perché Chiesa e Vlaovic È vero Però Vlaovic è venuto fuori adesso Fino all'anno scorso Si diceva Anzi Fino anche a quest'anno Si diceva che era meglio Cambiarlo con Lukaku Chiesa Sì ma Chiesa Il problema di questi due Massimo È il problema fisico E tre sta fuori È il problema fisico Che hanno avuto Però Massimo Guarda che l'anno scorso L'abbiamo appena detto Credo che l'ha detto Francesco Prima Nonostante tutte le problematiche Comunque la Juve Con Miretti e Fagioli Che arrivavano da L'Under 23 Cioè Sulla carta Era arrivata Terza Perciò vuol dire che Massimo lo sai anche te Sì ma io ti faccio una domanda però Ma della Della Juve Chi è che giocherebbe Titolare nell'Inter oggi? Tirami fuori dei giocatori Dimmi fuori Cinque Cinque giocatori Che giocano titolari nell'Inter Allora No secondo me Chi fa i cuori Chi fa i cuori Chi fa i cuori Come? No Chi fa i cuori Se fai giocare Rabiot No io non ho detto Se fai giocare Rabiot Allora io posso Te ne dico uno Se non gioca come sta giocando Perché poi tu lo sai Se Mkhitaryan gioca da 10 elode Dopo Rabiot Deve giocare da 11 Per giocare Perché se vai all'Inter Quindi fa giocare Mkhitaryan No però Quindi fa giocare Mkhitaryan Però tu mi hai chiesto Chi c'è nella Juve Io ti dico Chiesa senza il problema Che ha avuto Perché adesso C'ha delle problematiche Chiesa senza l'intervento Che ha avuto il ginocchio Che è stato fuori Un anno e mezzo Secondo me nell'Inter Ci può stare Vlauvi Gioca titolare Al posto di chi? Ma tu mi devi dire però Gioca titolare Te lo sto dicendo Allora Se va a Chiesa All'Inter Sì E non sta Non gioca meglio di Mkhitaryan Gioca Chiesa Ma non è Ma non è Ragazzi all'Inter Quest'anno Massimo All'Inter è arrivato Frattesi È logico Massimo L'Inter Ma che paragonia All'Inter quest'anno È arrivato Frattesi L'anno scorso Ha fatto nove gol Però se tu mi ammetti Un appendice Dove mi dici Gioca meglio E grazie Gioca meglio No tu mi hai chiesto Chi ci sta No tu hai chiesto Chi ci sta Secondo me nell'Inter Secondo me ci sta Si la Mascher intendeva Come sostituzione Se tu avessi tutta la rata Nel Inter E questi cinque nomi Cambieresti qualcuno Era quella la sua domanda Secondo me sono due No ma io ti sto Scusami Io ti sto dicendo Ci sarebbero da Inter Anche loro In questo momento In questo momento All'Inter Di Marco Sarebbero da Inter È un'altra roba Sarebbero da Inter Non mi siete capiti Non mi siete capiti Non è sarebbero da Inter Nella rosa dell'Inter Lo so anch'io Che ci sta dentro Chiesa Rabiot Danilo Bremer Nella rosa dell'Inter Io la domanda che faccio è A bocce ferme Con i giocatori che stanno bene Con i giocatori che giocano bene Chi levi dell'Inter E metti uno della Juve Chi Il nome di quello dell'Inter Che esce Per il posto a uno della Juve E te lo dico Rabiot al posto di Michitare Io te lo dico Rabiot al posto di Michitare Uno solo? Poi no Uno solo Mi hai detto Chi metti? Te ne metto undici Sta facendo da dieci Altri nomi Te ne dico un altro Chiesa senza il problema a ginocchio Gioca facile nell'Inter Al posto di? Poi mettono due vuoi Dipende come vuoi giocare i zaghi Dipende come vuoi giocare i zaghi Ma guarda che sta cercando di uccire Ma come sta cercando? Io ti sto dicendo Chiesa senza il problema Al ginocchio può giocare facile Fami il nome di quello dell'Inter che esce Scusa Allora Fai il nome di un attaccante Così è meno Max e contento Allora un esterno Vuoi mettere chiesa a destra? Perché non puoi giocare a destra? Sulla destra alto con dietro Darmian Chiesa davanti e dietro Darmian Michitare No Michitare Non mi dici chi esce Ma non mi dici chi esce Non mi dici chi esce L'esterno dell'Inter Ma te lo dico io chi esce Cialoglu Non può uscire No No Ferma Scusa Cialoglu non può uscire Scusa Scusa Perché non può Cialoglu non la posso aspettare No ma ragazzi Parliamo di cose tattiche Perché Aspetta No Darmian dietro Danfries davanti Io levo Danfries E faccio giocare a chiesa Via Danfries No te l'ho già detto due Perciò Ecco Ma Danfries non gioca Difesa attacco Di avanti Perché chiesa Scusami Chiesa senza problema le ginocchia Non può far l'esterno alto dell'Inter Sì sì ma vi faccio un'altra Io gioco Tanto è diventato un giochetto questo Gioco una cosa Ne metto uno soltanto Ne metto uno soltanto E questa Inter Avrebbe fatto vincere almeno due scudetti Già persi Metto Allegra e posto di Inzaghi Questo è vero Sono d'accordo L'Inter in questi due anni Con Allegra e posto di Inzaghi Avrebbe vinto Sia con il Minato Che con il Lap Io invece Avete la conferma Questo è vero Vincere Questo è verissimo Però io nel giochetto Tolgo soltanto due difensori E metto Danilo e Bremer E forse E forse Ballottaggio Fra Scesni E Sommere E con Scesni Quest'anno bene Però Sommere sta facendo molto bene anche lui Ballottaggio Ok Dunfries Chiesa Rabiot Io Allegri Allegri in Zaghi Dai va bene L'abbiamo conclusa così Alla grande C'è neanche paragone Io però in realtà Fabio Verga Ragazzi Prima di questi giochini La nostra speranza si chiama Ma scusate Ma scusate Ma scusate Ma guardate che io Non è che vado a sparare Una cazzata così L'ha pensata anche Marotta Prima di me Esatto Perché quando va via Conte Lui chiama Lui chiama Arriva Secondo Lui chiama E quando chiama Allegri Perché la prima scelta Era Allegri Esatto Eh ragazzi Inzaghi si era già seduto Contare E lo Tito Era già là Che stava firmando Ecco Ascoltatela bene Ascoltatela bene Sta cosa Da casa Soprattutto Quelli che parlano Un po' così Rentre Non ci stai dicendo No Ci sono molti interessi Non si riescono ad adattare A questa situazione nuova Di sviluppo della stagione È una roba pazzesca Sono molti fastiditi Marotta ha detto La frase pesante Non in ballottaggio Favoriti Certo È quello che è incredibile È quello che è pesante È quello che è incredibile Perché se tu dicessi Ce la stai giochendo Ma vuole essere una provocazione È partito È abbastanza normale Cercare di scaricare la pressione Diciamo che in questo momento Tra Inter e Juventus Marotta da una parte Allegri dall'altra Perché c'è anche questa anomalia Da una parte parla L'amministratore delegato Dall'altra parla L'allenatore Ma va bene A parte questa anomalia Stanno effettivamente E tu scusami Chi ritieni più opportuno Che debba parlare? L'allenatore? Tecnicamente Dovrebbe essere Dovrebbe essere Tra pari ruolo Cioè un discorso Tra ruoli diversi Non è che uno dei due È titolato E l'altro no Per carità Ma se uno non sa l'italiano Ci mancherebbe altro che Però Diciamo che Massimo Dovrebbero confrontarsi A pari livello Di ruolo Fate parlare Chi parla bene l'italiano No Amministratore delegato Con amministratore delegato Allenatore con allenatore Detto questo Ormai Il giochino di dire Sei favorito tu No sei più favorito tu È un po' Stucchevole Credo Ma credo Di scoprire l'acqua calda Dicendo che Ciascuno dei due Lo sta buttando lì Perché così Nel malaugurato caso Per lui Vincesse l'altro Può dire L'avevo detto che era lui che era favorito Ragazzi si fa da sempre Detto questo Credo che Lo scopriamo oggi Ma dai Per essere onesti Mentalmente Credo che L'Inter sia Indubbiamente favorita Contemporaneamente La Juventus Potrebbe smettere di raccontare La favoletta Dell'obiettivo Quarto posto Perché è evidente Che non è più Il quarto posto Ma infatti Scusa Fabio Verga La favoletta La racconta Allegri Perché non è stupido E sa che Mettere pressione Su un ambiente Che è avvezzo A vincere Gli scudetti Non è il Napoli Che vince lo scudetto Ogni 33 anni La Juve è avvezza A vincere scudetti E sa benissimo Che un ambiente Del genere Quando tu Pronunci La parola scudetto Si alzano tutti A caricare Di pressione Giocatori Che non hanno Le spalle larghe Apposta Per poter gestire Determinate pressioni Perché McKinney Cambiasso Ma gli stessi Bremer Lo stesso UEA Non lo so Io Kostici Giocatori Che non sono Lo stesso Vlaovic Nemmeno Chiesa La spiegazione È molto sensata Quindi Se tu ascolti I giocatori Come vedi I giocatori Invece Ti dicono Soprattutto Scesni Che è una persona Che è polacco Ma parla Italiano Meglio di alcuni italiani Ok Ci ha spiegato Che lui Siccome gioca Alla Juventus Deve per forza Pensare Con questa classifica Di poter Ambire Fino alla fine A questa vittoria Quindi Se come vedi Ci sono i giocatori Che hanno Sicuramente Un pensiero E l'altro Che potrebbe Anche averlo Questo pensiero Ma cerca Di buttare Ce l'ha Non lo va a dire Ma ce l'ha Aggiungo quello che sta Dicendo Massimo adesso Vorrei dire una cosa Allegri Proprio in questa conferenza stampa Dell'ultima partita Dice Perché Poi nel calcio L'opinione Si cambia molto in fretta È per quello Che lui continua a rimanere Quei piedi per terra Perché è normale Che lui creda Di poter fare Mio del quarto posto Adesso Ma lo sa benissimo Che non è il favorito Per lo scudetto Tu sai bene Francesco Perché non è il campionato Infatti parla di cose impossibili Lo sto tampinando Dalla partita Con il Milan E io ci vado di nuovo Adesso A breve Con la partita Scusate Poi scusate Poi scusate Una cosa al volo Quando si continua a dire La Juve Non ha le coppe Al netto di quello Che è stata La supercoppa italiana Adesso Ma l'Inter Potenzialmente Potrebbe avere Le stesse partite Della Juve Perché se l'Inter Esce con l'Atletico Madrid La Juve Ancora da giocare Una semifinale Di Coppa Italia Magari esce E quindi non la vince Quali sono le partite In più Che gioca l'Inter Rispetto alla Juve Ancora oggi Sei a pari Perché se l'Inter Esce con l'Atletico Madrid Dove ce le ha le coppe poi Non c'ha manco più La Coppa Italia Scusate Continuiamo a parlare Di questa C'è anche l'eventuale finale Di Coppa Italia Allora Un conto è dire Ha fatto le partite Di Champions E questo sicuramente Le ha fatte Cosa che non ha fatto La Juve Ma in questo momento Siamo a pari Di partite Perché se la Juve Peraltro poi vince La semifinale Va in finale Ne ha tre di partite Non due E se l'Inter esce Con l'Atletico Ne ha due Ti faccio concludere Poi ci fermiamo Per tornare al discorso Facevi poc'anzi Io ad Allegri Gli ho chiesto Già da Monza Lo scudetto Di sdoganare La parola scudetto E lui si è negato Totalmente A Lecce Ci ho grissato Però a Juventus Inter A Inter Se dovesse andare bene Gli lo chiederò Guarda una delle poche cose Che continuo a dire E che posso raccontare Di quando ho avuto L'incontro con lui Prima del derby col Toro Dopo Atalanta-Juve Che è stata Una partita tremenda Dove la Juve Ha fatto Veramente Ha giocato malissimo Praticamente niente Quel giorno Ha solo rinunciato a giocare Ha salvato la barca Scesni Ha salvato Il pari Attraversi Il fato Le situazioni in generale Lui in quel momento lì Era non solo Super tranquillo Ma cosciente Del fatto che era Arrivava Per quanto la prestazione Fosse discutibilissima La Juventus Aveva tenuto A distanza L'unica squadra In quel momento Era quella Che poteva lottare Con lei per il quarto posto Che era sempre Al quinto All'Atalanta Ad oggi Continua a fare la battuta Sulla Atalanta Ogni volta Siamo a 19 Siamo a 16 Siamo a 18 Siamo a 15 Il suo pensiero È semplicemente Stato lo stesso Sempre Se a marzo Se a febbraio Si aprisse il cielo Che qualcosa Non funzionasse D'altra parte Noi fossimo lì Allora poi uno Comincia a crederci E poi c'è anche una storia Ma non prima Ragazzi Ripartiamo da qua Promesso Riparto dall'ala sinistra E poi come leggete Abbiamo Prima ce le aveva Un po' accennate Francesco Pini Le parole Della gente Di Lautaro Camano Che oggi ha parlato Proprio del rinnovo Di Lautaro Quale assist perfetto Se non La prima pagina Oggi di un quotidiano Sportivo Molto Seguito Che recita Lautaro Due punti Ora lo scudetto E quindi Visto che parliamo di scudetto E visto che Lautaro Mi parla dello scudetto Non posso che condividere Con voi Anche le dichiarazioni Di giornata Della gente di Lautaro Camano Infatti il nostro titolo Lo vedete Nel momento Io chiedo Alla regia Di mandarci in grafica Le dichiarazioni Eccole qua Lautaro Ha due anni e mezzo Di contratto C'è tanto tempo Per parlare Però Trattiamo Trovare Un accordo Non è facile Ci sono tanti aspetti Di cui discutere Nell'idea Stiamo vicini Ma Cioè ma Stiamo lavorando Per trovare un accordo Che Attenzione ragazzi Al momento Ancora non c'è Se arriviamo Un accordo Benissimo E poi qua Risottolinea Il concetto Di prima Ossia Se invece Non ci arriviamo Nel calcio Siamo tutti Professionisti E allora Io riparto E da Paolo Vinci E da Giacomo Ferri Perché Cioè in questo momento Sì Lautaro il capitano Lautaro Chi dice adesso Dopo la supercoppa Ci prendiamo anche lo scudetto Ma intanto L'accordo con l'Inter Non c'è No Diciamo che L'incipit Delle dichiarazioni Sono abbastanza Chiare E sono Abbastanza Disponibili La parte finale Mi sembra Quasi una minaccia Se non raggiungiamo L'accordo Siamo tutti Professionisti Cioè significa Che possiamo Anche rinegoziare Ma non è che Lautaro va via Due anni e mezzo Di contratto Sono ancora Secondo me Un lasso di tempo Ragionevole Per ricercare Una soluzione Almeno un annetto C'è Da questo punto di vista Sono le somme Che impongono Ovviamente Un intervento Della proprietà Dicevamo Prima Di Zango Di altri Perché Inevitabilmente Lautaro vorrà Certamente 10 milioni O qualcosa di più Di queste somme Che potrebbero essere Proibitive Bisogna vedere L'evoluzione Dell'Inter Anche L'evoluzione Della vendita Dell'Inter L'evoluzione Della ricompattazione Dell'Inter Dovesse restare Zang Ancora Di tante situazioni Però Quella parte finale Non mi è sembrata Tanto chiara Ma io Non l'ho Poi Questa è una mia Interpretazione Personale Giacomo Riparto Da te Io non L'ho letta Come Paolo Vada a dire Siamo tutti Professionisti Quindi nel caso Ritrattiamo E troviamo un accordo Io l'ho letta Invece quasi Come se fosse un pizzico Di pepe Che vuole aggiungere Camano Anche sicuramente Per una sua strategia Ci mancherebbe Ma per dire Attenzione Magari l'ha detto Anche in maniera involontaria Però Potrebbe essere Che lui stia parlando Dell'ipotesi Di un mancato rinnovo Sì Vabbè Questo lo puoi mettere Perché comunque Lui non ha rinnovato Però Nelle dichiarazioni C'è scritto anche Cioè nella serie Se non troviamo l'accordo Siamo tutti professionisti No ma in questo momento Vittoria Stanno trattando Stanno trattando Lui ha detto anche Siamo vicini A metà A metà frase Sì Ha detto siamo vicini Ma manca ancora Siamo vicini ma manca E certo E manca la cosa fondamentale La firma Però giustamente In fondo Dice Se eventualmente Non Non si dovesse trovare L'accordo Siamo professionisti E si vedrà da farsi Però intanto Secondo me Da parte della società Ha un vantaggio Sul discorso Dei due anni e mezzo Come dicevo prima Certo Che è un vantaggio Tu puoi dire minimo Però comunque Ce l'hai Il discorso È che il ragazzo Continua a dichiarare Che comunque lui E' chiaro poi dipende Dalle cifre Vuole rimanere all'Inter Vuole rimanere Lui si trova bene Nonostante tutte le difficoltà Che ci sono Perché come lo sappiamo noi Penso che lui È all'interno Sa perfettamente La situazione economica È quello che vuole fare Nel futuro la società Penso che lo saprà più di noi Perché comunque Lì Se rinnova Vuol dire che sa Qualcosa più di noi Giusto? Allora detto questo E il procuratore Giustamente Fa il suo lavoro Perché Alla fine Io non l'ho letta Come Paolo Una minaccia Ho letto solo Una cosa Da un professionista Che è il procuratore Che dice Eppare Però io non l'ho letta così Io la leggo solo Che un professionista Alla fine conclude Dicendo Oh se eventualmente Non si dovesse andare d'accordo Siamo dei professionisti Ognuno per la sua strada Perciò è una cosa normale Il problema è A metà frase Però dice Siamo vicini Il siamo vicini Non vuol dire che hai firmato E però Siamo vicini Ma non abbiamo ancora Trovato d'accordo Quindi sembra sempre Che dia un po' Di bastone Di carota Come si può dire Scusa Vittorio In una trattativa Nel momento in cui Non ha ancora firmato Perciò Vuol dire che non hai accettato E c'è questo Ti remolla Perché tu C'è la richiesta E c'è La domanda Vero Verissimo C'è anche però Un'altra cosa Vai Quando uno parla In questo senso Dicendo Se non si trova d'accordo Saremo professionisti O faremo professionisti Probabilmente Qualcosa Nel cassetto L'agente di l'autoro Già ce l'ha pronto Quindi Una seconda squadra Che non sia l'inter Scusa Sì Max Scusa Scusa Ha ragione Francesco Perché A me è sembrato Di sentire L'agente di l'autaro Parlare in un modo Un po' di tempo fa Ma noi sappiamo benissimo Che nel calcio Le cose cambiano veramente Da un'ora A un'altra ora Può essere anche Che l'agente di l'autaro Sino adesso Non aveva Altre concrete Proposte E adesso le ha E magari adesso Ha un qualcosa Con cui Poter Dialogare con l'inter Con dietro Un qualcosa Di alternativa Di alternativa Di alternativa Scusa Aggiungo Aggiungo Lo che sta dicendo lui Questo anche Proprio in base Alle dichiarazioni Di l'autaro Di tre giorni fa Prima della finale Con Inzaghi Io ho sempre visto L'autaro Attaccatissimo All'Inter Al progetto Mi sembra Il classico giocatore All'Azanetti Cioè Quello che arriva All'argentino Che poi Io poi Scusa Però scusa Franci Io però Ti faccio anche Un'altra Far riflettere Su un'altra cosa Ma tutti questi dubbi Che abbiamo noi Su Zanga Sulla proprietà Sulla società Che è sempre in vendita Io lo so di per certo Che Ausilio Ha detto a una persona Al tavolo Ariad Ha detto L'Inter È sempre in vendita L'Inter È costantemente In vendita Questo è un qualcosa Che se pensiamo noi Che siamo di qua E che non siamo Parte in causa Cosa credete Che non lo pensano I giocatori Che anche i calciatori Soprattutto questi Che sono giovani Che stanno facendo Qualcosa di straordinario Massimo Massimo Però lo sapeva anche prima L'autaro Che l'anno scorso Però magari non aveva alternative No Io non posso Posso dirti Non posso credere Che uno come l'autaro L'anno scorso Non ha avuto delle proposte Alternative Non posso pensare Non come quest'anno Aspetta Ma non è che passi Attraverso solo Eh ma non passi Purtroppo Non è che passa Lui ha un contratto Scadenza Il 2026 E non è che passa Attraverso anche l'Inter Passa anche Attraverso l'Inter Più si avvicina La scadenza E più la cifra scende Di quello che potrebbe Pagare Faccio un esempio Il Liverpool Ma anche perché Quest'anno Non notare L'autaro Martinez Sarebbe da folli No però Secondo me Dato che l'anno scorso Comunque ha fatto Il campionato Ad altissimo livello Sì ma non come quest'anno Sì ma L'anno scorso Col campionato La sesta quest'anno L'anno scorso Col campionato Che ha fatto Secondo me Non può non avere Richieste Sono d'accordo Ne avranno avute Centinaia Magari quest'anno Ne ha di più Di quelli che possono Interessargli Perché quest'anno È come Iguaina Al Napoli Cioè sta diventando Qualcosa che non è gestibile Arriva 40 cose Vanti così Che ne può avere Giacomo L'anno scorso L'anno scorso In campionato L'Inter non ha fatto Grandi cose L'Inter ha perso 12 volte Sì però Massimo È arrivato in finale Quanti gol ha fatto Lautaro alla fine Il Totos Cioè In tutto Compreso le coppe Compreso tutto No io non lo so Guarda io non lo so Non sono No ha fatto Nacateva di gol L'anno scorso Però pesando Le prestazioni Quest'anno sta facendo Qualcosa di straordinario Sì Volendo Volendo Lautaro È stato sì Partecipe Del campionato del mondo Vinto dall'Argentina Ma non è stato L'artefice O il protagonista Addirittura Gli giocava uno Davanti a lui No con l'Argentina Massimo no Con l'Argentina no Ma con l'Inter L'anno scorso Ha fatto il campionato Ma non è arrivato quarto È arrivato quarto Ma con l'Inter l'anno scorso È arrivato quarto È arrivato quarto Non è Ha fatto la semi finale È arrivato quarto in campionato 21 gol L'anno scorso È arrivato quarto in campionato Eh ho capito Ma secondo te Uno che vuol prendere un attaccante Va a vedere come è arrivato il campionato No Però ti sto dicendo Aspetta Perché mi sa che non mi stai seguendo Mi rispiego meglio La rendita sul campo di Lautaro quest'anno È una roba che non può scappare a nessuno Nessuno Ma sì Ma già l'anno scorso Te lo posso garantire No No perché l'anno scorso No Non è vero Perché l'anno scorso c'erano giocatori Che facevano molto meglio di lui Ma chi ha fatto meglio di lui? Ma tanti Ma non solo Anche nell'Inter Nel finale Ragazzi L'Ukaku nel finale ha fatto meglio di Lautaro Martinez No Devo spezzare una lancia Scusami a favore Devo spezzare una lancia a favore di Giacomo L'anno scorso ha fatto 57 partite e 28 gol Eh quest'anno ha fatto quanti gol in quante partite? Sì ma allora non mi spiego Io non sto dicendo Ragazzi però fatemi dire Hai aperto di più canali No non sono io che non capisci Io ho detto un'altra cosa No scusatemi Non mi fate dire Se ha giocato meglio l'anno scorso o quest'anno Se ha fatto meglio l'anno scorso o quest'anno Non sto dicendo quello Ok Ho detto Col campionato dell'anno scorso È impossibile che un attaccante del genere Non abbia avuto richieste Scusami Se poi quest'anno Osimè le ha avute di più Osimè le ha avute l'anno scorso È un altro discorso Osimè l'anno scorso le ha avute? No non so se Osimè le ha avute Allora il concetto qual è? Osimè l'anno scorso ha spazzato via tutti No io voglio stare Francia Voglio stare Quindi avrà avuto più richieste Osimè Non voglio prendere Osimè Né Vlauvi Né Lucano Ma ho capito Ma di forse che vi portare al ragionamento Che stiamo facendo Perché è la stessa cosa che diciamo Osimè l'anno scorso Era il classico giocatore Che poteva valere 100-120 milioni L'altro no Quest'anno sì Ho capito Francesco hai anche ragione tu Perché ha fatto 21 gol Per 28 partite Ragazzi però Iguain la Juve Quando l'ha preso Quando l'ha fatto 36 gol Posso dire Secondo me stiamo facendo confusione 90 milioni ha speso lì O non ci capiamo Con calma ragazzi È la stessa cosa È la stessa cosa No io l'unica cosa Scusami Vittoria L'unica cosa E finisco Io non sto facendo il paragone Se hai fatto meglio l'anno scorso Quest'anno Ma è oggettivo Io sto dicendo Ma è oggettivo No No È oggettivo Io sto dicendo Che l'anno scorso Come è oggettivo È stato richiesto Ugualmente Quest'anno avrà avuto più richieste Senz'altro Ma non è oggettiva la cosa Quest'anno sta facendo Molto meglio l'anno scorso Molto Vedi che stai facendo Paragone sulla prestazione Ma perché oggettivamente È molto meglio Per i numeri che ha È mostruoso Il numero Ragazzi Sono Iguain Facciamo i numeri lì Sono immobile Ho capito Però il problema Può essere anche Perdonami Che magari Lui aveva fatto una richiesta Di tot cifre Sì Di appartenenza al cartellino Cioè vale a dire La richiesta È la società Che richiede All'altra società O la società Che fa un'offerta Al giocatore E poi Gli dice al giocatore Adesso penso A quello che può valere Il cartellino Qual è Formalmente La richiesta La richiesta Non è Io vado a parlare Col giocatore La richiesta Io Barcellona Chiedo Il giocatore All'Inter Non puoi chiedere Tutte di richieste No Il Barcellona Non può chiedere All'Autaro Se vuole andare O no Deve chiedere Alla società Beh Questo perché Uno Non sa che cosa succede Sotto No però Noi sappiamo Io ti dico che Secondo me Oggi il giocatore C'ha in mano Una proposta No ma Però Massimo In base alla domanda Che mi hai fatto Io rimanendo Sul Barcellona Può essere Che anche l'anno scorso Noi sappiamo Perfettamente Che magari Non vada la società Prima di andare Dall'Inter Il Barcellona Chiede al proprio Al procuratore Se gli può interessare La cosa O meno Ci sta anche Ci sta E tu lo sai Che fanno anche così Giusto? Certo Fanno così Esatto Fanno così Perché Prima di andare Alla società Chiedono al procuratore Se può essere Interessato A una determinata cosa Poi se il procuratore Dice sì Si presentano Dalla società Perché il giocatore Ha un contratto Di due anni e mezzo Voglio concludere Con Fabio Verga Questo blocco E la chiudiamo Anche con l'Inter E con Lautaro Perché una delle dichiarazioni Ulteriori Di Camano Agente di Appunto Lautaro Martinez È anche stata Il paragonarlo O quantomeno dire Che i migliori Centro Avanti D'Europa In questo momento Sono Proprio Lautaro E Holland Il problema Che Holland Prende 30 milioni Quindi La cifra È un pochino diversa Non è che In questo modo Ha anche voluto Spiegare Il L'intenzione C'è Di trovare L'accordo Ma Siamo ancora Lontani Proprio anche Per quelle cifre Premesso che La frase Del procuratore Non Di Camano Nello specifico Ma in generale La frase Dei procuratori Mai dire mai Nel calcio Non si può sapere Siamo tutti professionisti Ormai 18 partite Trovo molto calzante Il paragone con Quello che ha fatto L'impatto che ha avuto L'anno scorso Sul campionato Osimene Lautaro Ce l'ha quest'anno Lautaro dell'anno scorso Ottimo giocatore Ma non Il top Dominante Del campionato Cioè A questo momento Se il campionato Finisse adesso L'NVP del campionato È Lautaro Punto Ma senza ombra di dubbio Questo sicuramente Significa che O lui Sicuramente Scusatemi Lo tolgo Questo può Significare Che O nel frattempo È arrivato L'interessamento Di un'altra Grande squadra E quindi Il procuratore Sta sondando Il terreno Con l'Inter Per capire Fino a che punto Può arrivare Perché Non dimentichiamoci Che una cosa Non esclude l'altra Può anche darsi Che Lautaro Abbia dato al suo Agente Indicazioni chiare Per cui Vuole stare a Milano La famiglia Si trova bene Inserito nel progetto Tutto quello che vogliamo Ma siccome Non è una Ollus Ma è un calciatore Professionista Ha detto Io vorrei firmare Con l'Inter Però cerca di ottenere Il più possibile E quindi Il procuratore Sta facendo Giustamente Il suo lavoro Il suo mestiere Il suo lavoro E quello di ottenere Le migliori condizioni Per il suo assentito E quindi Manda dei messaggi All'Inter Della serie Come effettivamente Abbiamo visto In le dichiarazioni La volontà di rinnovare C'è Però parliamo Ci fermiamo con Max Vai Max No ti faccio una domanda Fabio Oggi come oggi Quanto secondo te Chiede Lautaro Come ingaggio Per quanti anni E quanto è disposta A dargli l'Inter Eh quello Lo sai meglio tu di me Visto il tipo di lavoro Che facciamo Io Non saprei dare Una valutazione Almeno 10 milioni Chiederà Lautaro Max Io ti faccio una domanda A sua volta Se chiede 10 milioni L'Inter È in grado Di dare 10 milioni Per 5 anni A un giocatore Ad oggi Con Zango Con punto interrogativo Probabilmente no Senza il decreto Crescita voi Ad oggi Mi verrebbe Da rispondere Ma è una risposta Scherzosa Interlocutoria Probabilmente sì Perché tanto poi Zani tra un anno Vende la società Il problema è di chi subentra Beh potrebbe essere Una chiave Di interpretazione Eronica Carina Certo Ragazzi Però sono 100 milioni 5 anni La vendi Con un debito Sugli stipendi Certo Quindi comincia Cioè È un po' La coperta corta Sì sì Che ti ritiri Da qualche parte Scopri